... Mini, cioè si chiama pub della coppia, il titolo della live. Vedrai, capiranno, chi sei, no? Amici! Eccoti. Di via di guinceri. In che caso stati qui? Guarda, così è meglio. Guarda i tuoi occhiali, amore. Allora, diamo il benvenuto a Nico. Ciao Nico. Ciao Nico. Buonasera. Poi, diamo il benvenuto a Riso. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Buonasera. È tornato Mario, eh? Attenzione, è tornato Mario. No! Lo sappiamo. Un piacere. Un vero piacere. No, guarda, c'è il mio fratello Matteo Riso là sopra. Ciao! Tu ce n'hai dei progetti che hai accantonato, amore? Cioè, che è potenzialmente idee incredibili, ma che poi hai, a cui hai già. C'era il libro dei Paolo. Quello è stupendo. Il libro dei Paolo è stupendo bellissimo. Spiega un po' stupendo che è interessante. Amore, ma l'ho spiegato, l'ho spiegato tremila volte qua, che cos'è il libro dei Paoli. Eh vabbè, cosa vuol dire? Mario non lo sa. Ma devi capire che ci sono persone che non lo sanno, esatto. Io non lo so. Mario, Mario non lo sa. Allora, allora lo spiego per Mario. Nemmeno io lo so. No, te lo sai Matteo, mi sa che lo vuol dire. Ah, scusa, scusa. Che cos'è il libro dei Paoli? Allora, il libro dei Paoli è innanzitutto un libro a fumetti. Non è un libro tipo romanzo scritto, però è un libro a fumetti biografico che racchiude le biografie, chiaramente un po' rivisitate, romanzate, capiamo. Capiamo cosa? Capiamo cosa? Di tutti i Paoli, cioè no, di tutti, dei Paoli più famosi d'Italia. Ogni storia sarà di, boh, una quindicina di pagine, 15-20 pagine, poi dipende dal Paolo, dipende se ci sono più o meno cose da dire. Ogni storia la fa un artista diverso e veniva fuori il libro dei Paoli. Io avrei fatto Paolo Limiti, per esempio. Ma sono stati anche Paolo Fox, Paolo Brosio, Paolo Bonolis. Io posso farmi Babbo, che si chiama Paolo? No, non è famoso. No, ma è Paolo famoso, con rispetto di Paolone, però non è famoso. Eh no, non ha fatto la storia d'Italia, ha creato Riso, scusa. Paolo Brosio, Paolo Limiti, poi c'è Paolo Chessi Soglu. Paolo Maldini, Paolo Villai, c'era l'idea di fare Paolo Chessi Soglu e l'alter ego Paolo Bitta, capito, insieme. Beh. Era figo. E Chessi Soglu, la storia di Tre Hitler, no? Però non sto scherzando, cioè era un'idea vera, cioè era un'idea che avevo davvero in testa. Io invece ho un'idea che a malincuore non mi è stata approvata, forse l'avevo già raccontata, dal Rizzoli. Io volevo fare un fumetto sulla storia dei ladri che rubarono la bara di Mike Bongiorno. Boia. Secondo me è una storia talmente grottesca che anche farci un film, te la devi inventare, chiaro, ma volevo partire da quella roba lì, perché secondo me ha un potenziale grottesco proprio di commedia dark, di commedia black, incredibile, incredibile. E secondo me una serie, ma anche un film su una roba del genere sarebbe incredibile. Il problema è che non ti daranno mai permessi, la famiglia Bongiorno ti darà mai permessi. O cambi e metti qualcuno. O cambi l'uomo. Ma Dio sa sa, Dè, ma Dio sa sa. Lo so, hai ragione, hai ragione. È vero, no? Sì, secondo me sì. Poi siccome è dorata, quindi ci puoi creare delle cose, tipo il cadavere che esce dalla, tipo casca la bara, dalla barra dalle scale, il cadavere Mike Bongiorno che tremicchia così dalle scale, viene lanciato. Un weekend col morto, però come Mike Bongiorno. Sì, sì, io ci sento già le musicette dietro, perché sono qui. Chiamalo tipo, non lo so. In inglesi pseudocomici dark che fanno tipo. No, io lo volevo chiamare, io c'ho anche il titolo, si doveva chiamare Allegria. Ma l'avevo chiamare? Bello. Sì, sì, ma zia, avevo pensato a tutto, era una cosa. Un altro, cioè, c'è una cosa potentissima. Ma è che te la rubano, te la rubano, quindi te la sento. Allegria col punto esclamativo, chiaramente. Ciao, mamma. Buonasera. Ciao, ciao. Buonasera, buonasera. Allegria, la vera finta storia dei ladri che rubarono. Le vere finte porte. Le vere finte porte. Poi ce n'è altre di... Progetti accantonati. Sì, ti ricordi quando mi proponesti la sceneggiatura del fumetto, eravamo a Tokyo, io ero completamente ubriaco e te la bocciai, la sceneggiatura di un fumetto, e dici, no, zitta, buona, fine, bocciata, bocciata. No, non ne voglio parlare, perché comunque c'entrano anche altre persone. O chi è? Morio, no. No, come bocciata, come bocciata. Era bocciata, c'entrano bocciata. Allora, eravamo ubriachi, ovviamente, ed era capodanno a Tokyo, e io, tipo, tutta così presa, contenta, ho iniziato a lavorare. Perché eri euforica per l'alcol. E vabbè, ero euforica perché avevo quest'idea fantastica in testa, che comunque... Certo, è come scoppiato un petardo. No, no, ma ci stavo lavorando già da un po', in realtà, non è che me l'ero inventata lì per lì, ce l'avevo in testa, stra-euforica, stra-contenta, tipo, al settimo cielo, mentre raccontavo questa storia, finisce e fa una merda, ok? Mario, un po' di stimoli per Mario. Abbiamo evoluto il Mario drogato, abbiamo evoluto il Mario drogato, se il Mario si interrompe le cose. Ho sentito cosa hai detto sul cane di panetti, Dario. Che ho detto sul cane di panetti? Hai detto di dare consiglio, di cercare consiglio a me su come assassinare un cane. Ah, sì, bello, ok? No! Perché mi ha mai avuto il tuo cane? Ma come fai a... Cioè, a vedere tutto, sei un grande fratello, praticamente. Ma che ne so. E te, Nico, ti hai avuto un progetto, magari ti sei appassionato ai giochi da tavola, hai mai fatto un gioco da tavola e poi ho detto, no, via, no, no, no. Cioè, vabbè, c'è un quaderno con mille idee dentro. Davvero? Esatto, sì, certo. Allora, senza svelare nulla, perché magari te l'ha in culo, però qual è quella più... No, non esiste, che me la inculino. Boh, è incazzato? No, 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 no. Non si possono permettere. No, no, però qual è tipo quello più demenziale? Quello che hai detto, no, questo non potrà mai vedere la luce, perché è tipo il mio fumetto su Mike Buongiorno, cioè non me lo produrranno mai. No, 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 io ho idee stupide, idiote, me ne viene tipo uno al giorno. L'ultima è stata quando ho scoperto, sempre legata alla questione di... fatti di cronaca nera, no, Mike Buongiorno? Ah, bisogna solo stare un attimino a Mario. Eh, per Mario, sì, 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 vai, vai. No, proprio di cronaca nera, no, ci avete presente la foto di Bossetti, no? Classica foto di Bossetti, dove con i due cani, se zoomate un pelo indietro c'è anche un gatto. Io ogni volta che vedo quella foto c'è un animale nuovo dentro. E come puoi collegarti a un gioco da tavolo? No, non è un gioco da tavolo, è un film, tutti fatti di Yara e Bossetti, ma visti dal punto di vista del cane di Bossetti, l'unica vera vittima di tutto quello che è successo. Questo non è vero. No, prendo le distanze alla stragrande, però... Ragazzi, se io dico il cane di Bossetti tutti hanno in mente di che cosa sto parlando. Ok. Ma poi c'è lo spin-off sul gatto anche? C'è anche, esatto. Certo, è già previsto, è già opzionato. C'è un film con i due cani e il gatto, no? Chi viaggiava verso l'America perché venivano abbandonati, non lo ricordo di preciso. Io lo guarderei, se ti può consolare, io lo andrei a vedere subito. Devono tornare i film per i giovani, per i più piccoli, con gli animali come protagonisti. E questo secondo me mi sembra un'ottima idea. Sì, sì, sicuramente. Ma quella è propaganda, o se è questa cosa? Ma quindi sarà... Ma di testo. Cioè, l'idea è di fare un film per famiglie. Esatto, esatto. Tutto un target di giovanissimi, però, in cui si parla di Carona Canera, ma dal punto di vista degli animaletti carini, che comunque fa sempre piacere. Anche un anime su Pacciani potrebbe funzionare. No, no, no. Una serie scritta da Corsi. Io ho già l'idea. Le voglio vendere da Corsi. Da un'idea di Stefano Corsi. Pacciani. Sì, presenta la serie 1992? Non mi ricordo come l'è. Però, con i fatti del mostro di Firenze. Quindi, da parte... Quella diavola, secondo me. Quella diavola? Ma, secondo me, anche La Merenda potrebbe... La Merenda? Ah, una sua, né? Bella. Chissà di film d'autore. Sì, sì. Sì, ma La Merenda sa proprio... Esatto, più di film d'autore. Ci vuole un nome più da sé. Lo sai che io ho... Lo sai che io ho un cliente che ce l'ha tatuato sulla gamba, Pacciani? Ma cosa? Sì, ma... Idolo totale. Ma chi è questo... Questo personaggio? C'ha, aspetta. No, perché lui c'ha tipo la gamba dell'horror italiano. E c'ha Pacciani. C'ha L'Ossio Musiele. Papà, ma non è deficiente. Dai, non è un eventi, dai. La franzone? Ma come la franzone? No, non so se ce l'ha, però sì, sì, trova così. Incredibile. Però quest'idea, Nico, di vedere... Oddio, Mario si sta annoiando. Si copre, dorme. Il punto è che Marco Quando se ne va dalla fidanzata Secondo me abbassa i riscaldamenti Perché c'è molto più freddo Quando sono da solo a casa Perché lui ti scalda il cuore Mario ma non doveva venire Ciccio Stasera ma che fine ha fatto Ciccio Ciccio doveva venire Mi ha mandato un messaggio su whatsapp Sei un coglione Ti vuoi tenere il palco Aspetta che ascolta il vocale Imbecille Non mi chiamare imbecille Dario Occhio perché ti chiama Colin Ward nell'audio Mutati Ma ti pare Non è vero scherzo Non diciamo queste cose noi Grazie a Marco d'Arcodio Ma sta giacca la camera Lui si mette sempre Da porno attore Matteo che hai avuto anche una carriera da writer Anch'io Anni killer mi firmavo Sì sì mi ricordo Anch'io Cosa? Agni killer O agni schizofrenic su netlog No Era il periodo sin queen Quella roba lì No prima ero in terza media Quando facevo Io ero più grande Io ero più grande Ma per te sono tutti idoli Lecca culo di merda Tu sei mio fratello Tu sei mio fratello Ah è certo Perché caverna è pingasi Allora io con Matteo mi ci vedo a un gruppo di schigarette Con caverna da ascoltarlo tipo A tritalo ci ti ci vedi Amore basta non fa più ridere sta cosa Cosa? Ma si è fermata la camera Quello è che c'è da far ride Mario Ma Nico che sbapa in maniera incredibile Guarda che si è fermata la mia vp No no è pazzesco No è il fatto magari dei quadri Delle cose che Eccoci Nico Dei quadri Delle cose che Purtroppo sono andate nel dimenticatoio Ma di cui sei stato fiero Dei progetti che purtroppo Sono andati un po' nell'oblio Quando eri artista Un artista maledetto No sì Cioè in realtà Guarda lo sai cos'è che mi è successo ora Che sai no Io ho fatto anche un po' di mostri Ho vinto un po' di concorsi Anche su Livorno Sì Premio Rotonda A livello di pittore emergente Tutte le cose Davvero? Premio Rotonda Sì 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 Con flex Ma pensa sì Non lo sapevo Lo sai che ora invece In realtà Quando qui ci abbiamo il quadro in casa mia No? Dei non riesco Io non riesco Sto veramente male Cioè? Non lo so Perché ci ho messo E ci mettevo sempre una parte di me Molto anche intima A volte Non lo so Non vederli realizzati E vederli appesi in casa mia Mi rompe poco il cazzo Vabbè poi comunque fare qualcosa del genere Mentre Lo sai che è tantissimo che non dipingo in realtà È proprio L'ho seppellita un po' Sta roba Puoi tenertelo come oggi Ciao Martin Ciao 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 i fratelli Ma infatti guarda Ma infatti guarda Quando abbiamo comprato questa casa qui Che abbiamo la taverna grossa Che ho detto Quasi quasi rinizio a dipinge Ma guarda Ma in realtà Matte Aspetta perché C'ho la notifica su Martin Eccoci qua Niente ti vieta di continuare A fare una roba del genere Mentre vai avanti col tuo lavoro Cioè lo puoi fare anche come hobby Come passione Perché no? Scusami Che poi Una cosa che sto notando Sempre di più ultimamente Che non è necessariamente Una cosa sbagliata Però Chiunque Abbia diciamo Un lavoro Un determinato lavoro E Una passione Artistica Vuole per forza Trasformare Quella passione artistica In lavoro Che ripeto Non è una cosa sbagliata No 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 Ma io non l'ho mai voluta intendere Solo come hobby Diciamo Sì 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 Ma non l'ho mai voluto intendere Come lavoro e basta Cioè per me era anche uno sfogo Ma uno sfogo Veramente psicologico O nervoso Che sia Per l'amore di Dio Buttalo via Ovviamente Però Però Secondo me Ora in realtà Mi è scattata Quella cosa che in realtà In questo momento qui Della mia vita Sto molto bene E riesco già a sfogare Anche solo in maniera positiva Tutto quello che c'ho Quindi non ho magari La necessità di dipingere Per quello Perché fondamentalmente Sto bene ora Capito E quello che ti spingeva A dipingere Era del disagio comunque Sì sì Soprattutto sì Ho capito Quindi si parla di dipingere? Sì in realtà Si parlava di Siccome Matte Io abbiamo fatto La stessa Ciao Martin Scusa un po' Ciao Martin Ciao 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 Sparò cocktailino Ciao tizio Buonasera Buonasera a tutti Ciao Ciao Sai chi sembra Martin Stasera? Uno dei Greta Van Fleet È vero È vero Grazie Ce l'hai un po'? Ti manca il sorriso La tenda La tenda Una roba del genere E dicevo no Si parlava Mario Di pittura Perché Matte Ha fatto Il liceo artistico Con me E poi ha fatto Anche Per qualche anno L'accademia Con me Lui dipingeva C'era murale Si era molto appassionato Di street art Poi ha fuso la street art E la pittura Un po' più classica Insomma ha fatto Anche un grande mischione E quindi si parlava di quello Perché poi Le strade Diciamo Non si sono divise Ma Lui ha preso Un'altra strada Nuove passioni Però gli è rimasto Un po' il pallino Chiaramente Di Magari approcciarsi All'arte Capito? Perché un po' tutti Hanno voglia Di esprimere Il proprio estero creativo Non proprio tutti Tutti Però magari qualcuno Se la sente Vuole provarci In qualche maniera Chi su Twitch Chi con un quadro Chi con una scultura Chi con la fotografia E bla 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 La musica Sì La musica E come diceva Agnese È interessante Oh Simone Ciao Ciao Simo Ciao Simo Ma buongiorno Ciao Simo Buonasera Buonasera Qualcuno Qualcuno vuole giocare a Fortnite? No Adesso no Adesso no Ok Allora ci sentiamo Ci sentiamo dopo No no Ma No Vabbia Devo fare una live Su Fortnite Ciao Non te ne frega un cazzo È in palinzesto È in palinzesto La live su Fortnite Devo fare i server privati Se nessuno vuole Vabbè Io vado Mi scosto Magari ci sentiamo dopo Dai Va bene Va bene Ciao Simone Ciao Simone Ciao Alla Cioè l'ha fatto L'ha fatto Con la morte nel cuore E te per esempio Mario Non hai una passione Nascosta artistica A parte vabbè Twitch Che che Vabbè Il tuo Twitch si può definire artistico Fino a un certo punto Cioè però qualcosa di Di artistico veramente Beh non è necessario però No ma poi Mario Figurati Fai una belletta No vabbè Una belletta Ti faccio massacrare volentieri Agnese Però grazie mille Quello che Quello che Ho sofferto Molto È doverlo fare Da solo Twitch Cioè il mio progetto Accantonato Era quello di fare Tutto questo Non solo qua in live Ma anche tramite video Con i miei migliori amici Perché trovo Incredibile Svago A condividere le gioie I successi Eccetera Però Per Forza di cose Per scelta Eccetera Sono rimasto da solo Quindi il mio progetto Accantonato È fare questo In compagnia Con il mio migliore amico Musicista Con il mio migliore amico Editor E secondo me Quello che diceva Agnese Sul Sulla Sulla pulsione Che hanno gli artisti Che Minchia Voglio farci anche soldi Se no non mi piace È un motivo Che fa sporcare Anche Quella stessa passione Agli stessi artisti A un certo punto Divento tanto grande Tanto vecchio Che la mia passione Non può essere Solo passione Deve anche conciliarsi Con il lavoro Perché Io non è che posso andare Stere artistico E poi dire che non ci faccio soldi Al giorno d'oggi Per me è sbagliatissimo Ci sta Di me Si è buttato Delle cose addosso Lui Non mi è pazzo Secondo te Perché anche io faccio teatro No Sono un attore Completamente pazzo Ragazzi ormai I coriandoli Sono caduto Ma dove è finito il tuo braccio Sono un attore Ah vabbè Ok Però non materializzano I coriandoli Gli attori Mario Mario Che però facevi anche teatro Mi ricordo Non ti viene voglia Ogni tanto di tornare In quel mondo lì No Le tende che si aprono Tre persone a guardarti Il palco scena E cinque Sì L'ultima volta L'ho fatto addirittura Gravis Mi hanno detto Vuoi fare una cosa Per beneficenza in Sicilia Mi hanno pagato Soltanto il viaggio Sono sceso in Sicilia L'ho fatto E sono tornato a lavorare Pur di volerlo fare Bello Bello Nobile da parte tua Nobile da parte tua Ma non avevano soldi Ma poi per farmi Riavere il rimborso Spesce ci hanno messo Due mesi Cioè non ti danno Nemmeno La voglia Di farlo Per il busto Di farlo Di farmi incazzare Questo lo capisco A me Nonostante Tutte storie Lavori L'ambito Del fumetto Da anni Continuano A rimarmi Proposte Di lavoro Gratuite Senza budget Senza budget Non abbiamo budget Però Ma è una mancanza Di rispetto enorme È una mancanza Di rispetto gravissima Ecco qua il word De mia sceneggiatura Ti pago invisibilità Scrivono Esatto Gli artisti sono sempre bullizzati E sono sempre quelli Che nei sondaggi Fanno il mestiere Meno utile Alla società Però nessuno dice Che in quarantena Senza Netflix Sarebbero tutti impazziti Il quadruplo Sono impazziti Lo stesso Lo sarebbero impazziti Ancora di più Beh Raga L'arte è fondamentale In parte Ti vado su di un principio Condivisibile Cioè che l'arte È inutile Ma proprio per questo Non ne possiamo fare a meno Esatto Cos'è È incredibile Mamma mia Martina Ha detto tre parole Ha detto Ha bisogno di innamorare A profondo Io posso andare Anche a letto Vabbè ragazzi La follia Cioè da un estremo A quell'altro Cioè Vorrei dire una cosa Secondo me Anche interessante Perché Se ci pensate Anche lo stesso fumetto Durante la quarantena È esploso E ha scalato le classifiche Soprattutto i manga Quello vabbè È un dato in più Su cui si potrebbe Che riflettere No vabbè Coscias Ecco Chi è? No 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 Ma Bello Vabbè Un po' Yellow Sun Marine All over the world Sì sì Totale Sì Che Delia pure E no Perché È entrato così Con quel muro dietro Perché domani Glielo buttano giù No Quindi è l'ultimo ricordo Che questa linea Sembra sotto sfratto Con tutti gli scatoloni dietro Fa passare la metropolitana Suri Si parlava di arte Figurati Quindi Ora sei arrivato Proprio al momento giusto È vero Insomma Diciamo che durante la quarantena La gente ha riscoperto Le proprie passioni Ti ricordi quando Durante il primo lockdown Tutti facevano il pane In maniera compulsiva O cercavano di Di occupare il proprio tempo Con cose che non avevano mai Fatte in vita loro E quindi si sono Buttate anche sul lato Non si trovava il lievito Il lievito più richiesto La gente si faceva il lievito madre Ci vuole tre mesi Perché non c'era il lievito Nei supermercati Allora faceva il lievito madre Ci vuole tre mesi Che fare il lievito madre Quanti matti Non l'ho visto Fammi vedere Tre mesi Eccoli lì Ah così proprio Voi durante la quarantena Avete ripreso in mano Qualcosa di strano Che non avevate mai Ripreso Durante la vostra vita Tipo il collezionismo Ho iniziato a fare Le lievito su Twitch Eh già qualcosa Anch'io Ah buono Buono Anch'io e la chitarra Io sono entrato Su Twitch Così Suonare la chitarra È vero Anche eri iso Sì è vero Mi ricordo Che eri davanti A fare Davanti al supermercato A fare la fila Con la mascherina Aspetta aspetta No No all'inizio Quello la lasciamo stare Io dico l'evento dopo L'evento dopo Eri a fare la fila Ero esatto Ero in istituzione Ti mi hai fatto rischiare Il mio primo ban Però per che fortuna Voi non è E poi il secondo Secondo Le mutande Le mutande Che non erano mutande Si va bene Insomma Io ci pensavo oggi Quando ero a fare la spesa Ma Quando si faceva la fila Per ore Per fare Quanto Quanta potenza Sì Buonasera 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 Anche lui Liscissima Stasera Oggi è il pick up Dei capelli lisci Che è successo Che è bello La pizza No Agnese Grazie ma no È pronta la pizza Le dieci e mezzo Il tizio Comunque Vabbè Ma poi che cazzo Ma poi che sono Alzo forno Pim pum Sembra Sempre presente I mini market Che hanno quella suoneria In Giappone In Giappone C'è quel suono Vabbè Davi su Twitch Invece gli altri Nient'altro Surry Che stavi dicendo qualcosa Prima In realtà no Però Durante la quarantena Ho iniziato A leggere In maniera Più impegnativa Adesso mi smettevo lì A leggere E a scrivere Anche Che è una cosa Non facevo molto Prima A scrivere Tipo romanzi O semplicemente Tipo diario No tipo diario Tipo diario Cioè ma quello a mano Sì 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 Ah boia Bello Bello Oddio Tutto a posto Tutto a posto Tutto a posto È stato un problema Strutturale Ok Sto parlando col manager Forse Non lo so Dario Andiamo Dario Dimmi Buonasera Mario si sta annoiando No No Mario No Mario No Mario si è annoiato Ma quando sarò liberato Da tutto questo E invece a te appunto Dacca Come Sei riscoperto qualcosa In quarantena Qualcosa che non avevi previsto Beh scusate Allora Rifammi un attimo In che senso Ho scoperto qualcosa No perché noi si parlava Della gente Che in quarantena Ha iniziato a collezionare O si è messa a dipinge quadri A far pane Ti hai fatto qualcosa Che non avevi mai fatto Ma A dire la verità No perché Cioè ho continuato In realtà La mia vita Ho lavorato più di prima In realtà Durante la pandemia Quindi Diciamo che È stata una scusa In più Per fare ancora di più Non che servisse Di base Perché comunque Cioè anche io Sono una persona Che lavora Trentordici ore al giorno Quindi di base Non è che mi servisse Però devo dire che Diciamo è stata la scusa Definitiva E più che altro La pandemia Cioè perlomeno La prima parte Quella proprio Di chiusura Totale Secondo me È stata È stata fondamentale Per capire L'importanza Anche per chi Magari Non fa Un tipo di lavoro Come il nostro Di capire L'importanza Di un lavoro Come il nostro E di tanti altri Comunque C'è il settore Dell'intrattenimento E tutto quanto Quando si Quando si parlava Soprattutto di Perché a un certo punto Anche l'intrattenimento Si è fermato Perché nessuno Poteva più registrare Perché nessuno Poteva più fare Nuove serie E cose del genere Qualcuno ha cominciato A domandarsi Sì ok è vero Noi diamo sempre Per scontato Questo settore Però poi alla fine Se nessuno le serie Registra più Se nessuno le live Le fa più Poi non è stato così Perché abbiamo visto Che durante la pandemia Anche la signora Luisa Di Voghera Ha cominciato a streamare Quindi È stato Diciamo c'è stata Questa riscoperta Il fascino Della riscoperta Michele direbbe L'anima Della riscoperta In questo caso È una cosa Che noi sapevamo già Però ecco Forse è questo Quindi Possiamo dire Che sei come Berlusconi Nel senso che Lui lavorava di più Quando c'era la febbre No? Sì Però non parlo così No Però non lo faccio ancora Adesso Ora non riesce Emano più a parlare così Ora parla con questa voce Ora parla un pochino Così Perché Un attimo Capite che Ti sentite un po' Ma Voi ragazzi Di che cosa Siete orfani Di Berlusconi Questa è la classica Domanda Che Dario fa Perché c'è lui L'ho spunto Io non ho mai Detto questo Questo tipo di domande Vai Vai va Di cosa sei orfano Di Berlusconi Di Bim Bunga Bunga Bim Bunga Bunga Bim Bunga Bunga Mai manca Ecco Io penso Io penso Che però C'è una cosa C'è una cosa Che noi tutti Dobbiamo a Silvio C'è una sola cosa Che effettivamente Lui in Italia Ha portato Gran parte Delle nostre passioni Perlomeno Sulla tv Il problema è come Ce l'ha portate Quello è un altro discorso Siamo tutti d'accordo Però Da un certo punto di vista Le ha portate Perché Comunque Ci voleva tanto tempo Per portarle La Rai Comunque non le portava No Non la figa Ragazzi Sta dicendo Gli anime Gli anime Non quello Ma no Scusa Ma anche le serie tv I film Comunque Cioè Non è che adesso Capisco che poteva essere Un grande esponente Non è che la figa Ha cominciato a desistere Nel momento in cui Un grande esponente La genera a lui Grazie E ha portato A un livello successivo Bisogna essere sinceri Effettivamente Però Però almeno Ha portato Diciamo tutte quelle cose lì Di cui probabilmente Non sapeva un cazzo Nemmeno lui Però Sapeva che c'era mercato E quindi di conseguenza L'ha portata Almeno una cosa Diciamo che è stato Un imprenditore Della figa Io ho saputo Come venivano fatte Queste cose Sai Te l'hai detto Non so Come Lui non sapeva niente Di queste robe Effettivamente Non lo sapeva Lui aveva un sistema Infallibile Praticamente Berlusconi Affidava Ogni fetta Di mercato Di Mediaset A un parente diverso Ah ecco Le telenovelas Le Prendeva Le puntate Di pilota Ok Che servivano Come demo Come dimostrazione Le dava A sua madre Che invitava Le sue amiche A casa E visionavano Le telenovelas Quello che Mamma Rosa Diceva Si Vanno bene Allora lui Le faceva tradurre Doppiare E le lanciava Su Mediaset Pazzesco Per gli anime C'era Alessandra Valerima Nera Che era Collaboratrice Storica Della famiglia Berlusconi Lei andava in Giappone Vedeva cosa tirava Vedeva cosa Avrebbe potuto Andava fisicamente in Giappone Sì anche E avrebbe potuto Funzionare In Italia E portava tutto Sì 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 E per esempio Lupin invece È un personaggio Che è stato Che ha sempre Fatto faville In Mediaset È stato sempre Comprato Tradotto e tutto Perché era fissato Pier Silvio Cioè Pier Silvio È uno dei più grandi fan Del mondo Di Lupin E compra tutto Compra tutto Compra tutto Quello che c'è di Lupin Lo fa tradurre Avrà avuto No vabbè Lasciamo stare Comunque insomma Dici Ok No no Era un po' troppo telefonata Eh questa era un po' troppo telefonata Per quella non l'ho fatta Era un perché avevo paura Assolutamente Eh Basta Cioè comunque Così funzionava C'era tutto un sistema suo Per decidere cosa andava E cosa non sarebbe andato Sul meglio Pazzesco 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 Sì io mi ricordo Che avevo visto un'intervista Che andava Dragon Ball Come? Pensa se non andava Dragon Ball Cioè non ce l'avremmo mai avuto Vabbè ma Dragon Ball In Giappone Stava già spaccando tutto Sì vabbè Però pensa se Non ci fosse stato Ce l'ha fatto ovunque Che gli americani Ha tecchito anche Esatto In America Prendi la patria dei supereroi Ti gli prendi praticamente Un supereroe Giapponese Glielo vendi E' andato benino Anche in America Dragon Ball E' andato dappertutto Va dappertutto È universale Però soprattutto Non si sa perché In Sud America Queste cose vanno tantissimo Tipo anche i cavalieri Sono andati tantissimo In Argentina Vendevano Come pazzesco Ma io se non mi ricordo male C'era il In Spagna O comunque Nei paesi spagnoli Che c'erano tutte le peggio I peggio disegni Dei super saiyan Livello 24 Sì 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 Nei paesi spagnoli Goku super saiyan 5 Sì sì C'era quello tipo Con i capelli enormi Sì Yankee Dragon Ball A F A F A F Dragon Ball F Che l'avevano tradotto Tipo April Fish Una volta Sì sì Era quello Sì sì Perché era la fan art Che avevano spacciato Come serie Quindi andavamo Nei siti a cercare I livelli di forza Anche precedenti A quando effettivamente Avevano lo scouter Non so come Io mi ricordo Che c'era gente Che li stampava E li metteva dentro Le cartelline Per farli vedere Agli amici a scuola Io ma no La voglia Magari quello Che c'era internet Per miracolo In tempi non sospetti Stampava per tutti Mi è venuta in mente Una roba Fra l'altro Quando c'erano Cioè quando si cominciava A utilizzare il computer E internet Ma proprio all'inizio All'inizio Cioè io Non so perché Andavo Non so dove andavo Non so dove trovavo Ste immagini anime Tipo bruttissime Che non sapevo Neanche di che anime Possero Le stampavo Cioè le stampavo tutte Ma perché? Perché c'era questa Successione Nello stampare Ma le mettevi nel diario Oppure così di tuo La cartellina La cartellina Ancela ancora adesso A casa dei miei È piena Di foglie a quattro Stampati con queste stampe Di anime Le ammiravi Le ammiravo Sì sì Io stampavo le carte Di Yugi Stampavo le carte Di Yugi E me le mette Poi la mia stampante Faceva cagare Venivano tutte le righe Sempre Eh beh Quello sempre Le Epson Che abbiamo consumato Vabbè c'era anche tipo Il top era quelli Che ci facevano tipo Il decoupage Sul quadernone Con la colla vinilica Madonna Che rivestivano Io mi ricordo Che c'era la moda Di rivestire Con i fogli di giornale Con i fogli di... A un certo punto Io avevo un amico Che a scuola Aveva tutto decoupageato Ma tutto L'astuccio Aveva fatto tutto rivestito A Livorno A Livorno Anche i pezzi dei motorini Li facevano così Tipo la mascherina Dello scarabeo Livorno È fantastico L'anni 90 Ma la mascherina Dello scarabeo Facceva delle sorte Di basso rilievi Nei diari Con la vita Ma non sono Diari che a settembre Erano più schi A giugno Erano più schi Vero Io li ho sempre invidiati Quei diari Io non li ho mai avuti Perché non c'avevo neanche Non avevo neanche Ma la pena scrivevo Le cose giuste Nel diario Figurati a metterci le robe Vabbè Io un ciavo Forse un ciavo Nemmeno il diario Io Beh io come No Boh No Io di tutti i miei L'ultimi anni Non ci sapeva nemmeno Il diario Cioè se andava Così a braccio Io prendevo sempre Quello tipo Che aveva la copertina Neutra E la disegnavo io Disegnavo sopra Ma voi non c'avevate La pagina antistress No Che senso Tra le ragazze Andava sta roba No Cos'è la pagina antistress Ti amoressi Un'altra generazione Ah vabbè Ok E Praticamente Scocciavano No quattro Scocciavano Completamente Una pagina del diario Completamente E poi la stropicciavano Perché quella Non si distruggeva Perché era tutta Rivestita di scotch E te la spiaccicavi Ti diventava la pagina Antistress Ma hai visto Stavola La pagina Di Polorio Ma perché ieri Mi hanno parlato Di Portogallo No io Io vorrei fare La 10 elevato In Portogallo Beh Sì però Scrivi Scrivi Duose Ho capito Matte Gennaio Ci si sposa A luglio Scrivi Duose Ti organizza Oh Radio Per luglio C'è da prendere Ferie Dario Dario C'è te non hai capito Che manca Power Ma non manca Power Nel senso Per prenotare Le ferie Che magari Uno inizia già Ma che prenotare Le ferie È sua la bottega Cioè Cosa deve prenotare Allora no Cioè Le ferie Le ferie Ma per prenotare Dio Bisogna organizzare Ma Tanto riscoppia Il colore Secondo te Che organizzassi Per tempo Non esiste Ma infatti La 10 bato Della mia festa Sono cazzi vostri Me lo organizzate voi Dei a me Quasi è un regalo In realtà sono loro Che dovrebbero Cioè Te non devi Vabbè Queste cose Bisogna sentire Nico Tanto meglio di lui Per far A parte che ci vuole Nico E il Masella Perché sennò è impossibile Esatto Cosa facciamo Cosa facciamo E poi se te Non mi impari Io in Portogallo Non lo conosco Non è mia zona Devo far due chiamate Però Non fare cose Da vecchi Tipo la degustazione Del vino Perché il vino Te lo mette al culo Niente Certo È classico Guarda per me Possono organizzare Cosa ti fa Cosa li fare a loro Non me ne fai un cazzo Ci sarò E va bene Però se te Non impari A rispondere A telefono È impossibile Che non si faccia qualcosa Ma ti rispondo sempre Ma che cazzo vuoi Mai Mai Guardate la La cazzata Non lo guardo Non lo guardo Non lo guardo E ti chiedono te Lei vuole andare a Berlino A probabilmente Il booster No Il Mamma mia L'idea Iniziale Era Cioè il mio sogno È quella di andare Al Berghain Di Berlino Ma da quello che ho capito No Per il Berghain Ha un'apertura strana Nella Capito Che c'è L'Umlout Classico verso Con il quale I butta fuori Ti rimbalzano E ti bravo I don't I don't I don't Di distanza E vai Dicevi amore A Berlino Il pretzel Il pretzel Vabbè Qual è L'indumento Di cui ti penti Adesso Che indossavi In adolescenza C'è tipo Quel paio di scarpe Cringe Le golden No guarda Nell'adolescenza Quasi niente Cioè Vestivo è normalissimo Jeans Vans Magliettine Classiche Cioè Normali Però 3-4 anni fa Ho fatto una shopping Sprint interessante Ho comprato Delle cose Che Non ho mai indossato Tipo Non lo so Magliette strane Soprattutto in Giappone Che ci sono tutti quei Negozietti Che vendono usato Però ho usato Comunque Diciamo Di marca Trovi sempre Delle cose strane Che vendono Per il mercato asiatico E dici Ah bella questa La compri Non la userei mai Ma perché il Bergheim Che che miti Ancora Perché mi piace andare in discoteca E ballare Ma dov'è la prima volta Che sentire il Bergheim Non me lo ricordo Perché anni fa E poi perché Un'amica qua C'era andata Era una mia compagna De superiori C'è stata E niente Me l'ha raccontato E ho detto Fin Che discoteca avevi come mito Quando eri adolescente Tipo il Diabolica Io in che discoteca andavo? Eh No no Diabolica C'era Cioè andava di moda Però io non ci sono mai stata Diabolica Il Giais Andava il Giais No c'era il Duple Poi c'era Il Duple Paura Duple Paura Che cazzo di canto era? Ma perché Dove aveva paura del Duple? Noi siamo come il fulmine Che spacca il cielo in due Noi siamo energia pura Mamma mia Duple Paura Paura Bellissimo Ma poi c'era Non siamo corrente elettrica Che corrente è molto forte Trioidi State cilicini Roberto Francesconi I gelati sono buoni Roberto Francesconi I gelati sono buoni Un abbraccio Un abbraccio Francesconi Quattro di oggi c'era anche Com'era dell'altro Ah sì Cama 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 E Oh E Oh Cama 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 E Oh Mamma mia Come faceva a conoscere tutte queste robe E non sono mai stati Esatto Ma perché È perché giravo i cd Giravo queste cose C'è qualcuno che Io sono stato a compleanno di Fudo Senza andare a compleanno di Fudo Chi è Fudo? Chi è Fudo? Chi è Fudo? Fudo era un famosissimo vocalist Che aveva la particolarità di essere sempre sobrio Quando faceva le serate Si immagino Un po' come Franchino Io credo che fosse la persona più distrutta dopo Franchino Cioè Messo bene Io Franchino Ho avuto il piacere di assistere a una serata di Franchino Ed erano tutte persone Non ho capito perché Ma molto amanti dei succhi di frutta Perché avevano tutti questo succo di frutta In bottiglia tra l'altro Quindi sì sì Era una cosa Erano tutti salutisti Io Franchino Io Franchino L'ho visto arrivare a Calafuria In sedia a rotelle Ma anche perché Da quel che mi ricordo Lui tipo lavorava all'Elba Una cosa del genere Sì sì è vero Per un certo periodo Ha fatto anche fumetti Chi? Franchino Ha fatto fumetti Ma non è vero? Sì sì Se ne disegna come parla L'hanno tutti sghambito Poi c'ha L'hai visti i denti O la di Franchino? Belli Non ce l'ha Ce l'ha proprio dei finti Bianchissimi Senza senso Comunque dicevo Mi è venuta in mente una cosa Mi hai chiesto Ai tempi di Netlog Diciamo Qual era La mia discoteca Mito Vabbè Cosa c'era? E tipo Allora Non ci sono mai stata Però C'era questa C'erano queste serate Che organizzavano A Roma Forse Non mi ricordo Che si chiamavano Durex E c'era tipo E ci andavano gli Emo E tipo Tutta quella gente lì Di Netlog Sempre un po' invidiato Però In realtà C'è stato poi Che erano una merda E faceva veramente schifo Il posto Ho un pochi dubbi Non ci ho mai sentito Io ho girato anche tante Tante discoteche Nella zona Del Versiliano Della Versilia Del Versiliano C'era il Seren Una mia licenza C'era il Seren C'era la bussola C'era L'Ostras Beach L'Ostras Seve è poco Ragazzi Girava più Bamba Lì dentro No Scherzando No Ma solamente Le scattiche Bamba per mo' La caniccia La caniccia Mamma mia Qual è quello che ha preso Poe? La caniccia Era quella Ah sì? Sì Il Kama ha preso Poe No Il Seren C'ho fatto il compleanno Più brutto della mia vita Che era il compleanno Nel fattorini Dieci euro a bevuta Dio madonna C'era quattro blocchi Di ghiaccio Questa era la percentuale Alcolica Il Seren era molto Pottino Poi ma poi un casino Pieno di gente Comunque il top Secondo me Era il Terax Il Terax Madonna E poi c'era anche il Il Sunflower Il Sunflower Mi ricordo Si mettevano Bengala nel culo E l'accendevano È vero Coppa no Un altro ricordo L'acqua feta Ti sei mai ficcato Un Bengala nel culo E l'hai acceso? No Devo dire che Ho missato Questa grande opportunità Perché Ma si può sempre recuperarlo Nonostante No vabbè ma guarda Nonostante abbia frequentato Qui a Milano L'Ira di Dio Tra Corso Como L'Old Fashion E Compagnia Bella Devo dire Anche il Prince Perché ricordiamo Il Prince di Riccione Che credo non sia Non so se abbia riaperto Perché vabbè Sono secoli Che aveva lo slogan bellissimo Che si chiamava L'erba voglio Che c'è solo nel giardino del Prince Era tipo bellissimo Bella vista Minchia Sì vabbè Non è che Cioè Non è che Posto per poeti Insomma Però Era comunque C'è valso perché Però il Bengalo Devo dire che Effettivamente È un'esperienza Che mi manca Ma non credo che Glorione Mai fatti Devo rispondere No no Cioè Non lo so Te Mario Cioè te Mario L'hai mai fatti Glorione Presumo che Glorione Glorione Geffrey Ah ho capito Chi è Ah l'ho conosciuto Anche io Certo Ti è piaciuto Agnese Geffrey Sì Geffrey Calà Mi ricordo C'è sempre Tutta la sera Mi ricordavo Questo È innamorato Sia di Dario Che di Agnese Ma ovviamente Amichevolmente Ce lo va a buttare Ancuna Tutte e due Probabilmente No Sembrava a me Che forse Vabbè Non è che sei una persona Gentile Automaticamente Non era gentile La gentilezza Ma tu mi sei sentito Intimorito Da Jeff Dario Assolutamente Mi sembrava Un ragazzo Molto Alla mano Però Perché lui È molto irruente Anche lui Sì Mi ricordo Mi sborrò anche Nei apelli Se era lì A tua papà Mangiavo il panino Adesso dai È un gesto affettuoso Ma è quasi Il sistema di difesa Quasi Quindi non era Ci mancherebbe altro Darkados Qual è stato Il tuo sistema Di difesa migliore Il sistema Di difesa In questo campo No Non la sbrodata No Ti intendo Generico Generico Tipo Quando si avvicina Tipo Una persona Che odi Che vorresti Che odi Che detesti Magari un ciffone Come 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 Ti destreggi Per evitarlo Per rispedirlo Al mittente Ma Dipende Di solito Di solito Mi defilo E fine della trasmission A meno che non sia necessario Cioè Io non sono tanto Per Per lo scontro In genere Cioè Lo scontro Se è necessario Cioè Devi venire proprio Ti ci devi impegnare Io sono una di quelle persone Iper tranquillone Cosa del genere Però poi Mi fa incazzare Di oboggio Scatta il casiccio Ti devi impegnare Però ti devi impegnare L'acqua che Te la spacca i ponti Esatto Vabbè Grazie E ti volevo chiedere Mi nonno Ma cosa fai Quando ti incazzi Qual è l'ultima volta Che ti sei incazzato Per la motivazione Magari sono cazzi tua Però qual è l'ultima volta Che ti sei incazzato seriamente Incazzato seriamente Vabbè Per cose familiari E cose del genere Ma lì sai Può far poco Però Una volta Mi ricordo Che Avevo dato Ti parlo di Fa conto Una decina di anni fa Avevo Anche di più Avevo dato Tipo Eravamo fuori Tipo Zona Lago di Garda Avevo dato Questo zaino Tipo a un mio amico Perché avevo detto Ascolta io adesso C'ho da fare Non lo puoi tenere Mi raccomando Stai attento Perché dentro C'era un iPod All'epoca ancora Quindi dell'iPod C'è dentro C'è dentro un iPod Con Le Composizioni Orchestrali Mie Però quelle Non ancora Registrate Alla SIAE Quindi mi raccomando C'è È importantissimo Perché quelle Poi vanno date Alla SIAE Insomma Sto via Due ore E torno indietro Poi ho lo zaino Zero Perso lo zaino Con dentro L'iPod Con dentro Tutte le composizioni Orchestrali Ed è stata L'unica volta In cui ho piegato Un palo Della strada Con il calcio Probabilmente Al calcio Al calo Ho detto Che si colmi No 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 Beh non con il calzo Però Infatti non il calcio Quello potrebbe essere Controproducente Ma scusa Non l'avete più ritrovato? L'abbiamo ritrovato E anche questa è una storia curiosa Perché 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 A un certo punto Dopo una serie di peripezie Io ero incazzato nero Arriva una telefonata Da Da uno degli amici Di quello che aveva Questo pub Insomma Dove era dentro lui Soprannominato Ercadena Cioè tipo Il catena In Veneto Che Per dire Tu Nome un programma Fondamentalmente È arrivato Alle tre del mattino Ovviamente cercando Pregandolo in turco Tipo di rivenire Ti prego Dentro c'è la vita Lui arriva Cioè scazzatissimo Perché probabilmente L'avevano visto Stava andando via con una Quindi stava anche trombando Questo poverino Cioè È arrivato Ce lo chiamavano il cadena Perché aveva Ste catene Ma proprio Hai presente tipo Le catene Quelle per i motorini Cioè quelle enormi Capito Cioè pesantissime Al collo Due A torso nudo Alle tre del mattino Incredibile Sì 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 Ci dice Ci dice Con la macchina Fa salite No Adesso qui un casino Adesso sicuro Sicuro le prendiamo Ci porta Ci porta a casa sua E tu dovevi vedere Con che minuzia Cioè proprio aveva Tirato fuori Tutto dallo zaino Pezzo per pezzo E fa Un mitra No 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 Un mitra no Però pezzo per pezzo Tutto quello che c'era Nello zaino Cioè era tutto catalogato Già schedato Probabilmente per essere Rivenduto Non so dove In tre secondi fa Un ricettatore quindi Sì 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 Fa comunque Questa roba qui Dice Io la volevo vendere Poi ho visto Studente universitario Ho detto Mi facevate pena Prendetevelo No Prendiamo le distanze Dalle ricettatore Però in compenso Ti ha registrato Tutti i brani alla sierra È reato Ricordiamolo Per fortuna no Per fortuna no Perché comunque Dopo ho fatto una visura E quindi per fortuna Le partiture erano nuove Ma scusa Ma Dark Andros Dark Andros Non lo conosco Quindi Andros va bene Andros va bene Andros Volevo chiederti Ma hai origini toscane Perché parli Cioè hai un accento Un pochino Sì perché mio padre Mio padre Abita Abita lì Allora a Dario Avevo detto dove Però non posso dire dove Perché è veramente Un posto minuscolo Ma non è Cacciatore di cinghiali Supa No Ah di Crosetano Di La Florincia Però C'è il Maremma Ha capito la zona Ah il Maremma Ah ok Ah sì giusto Bravo Esattamente Quindi la zona La zona è quella lì Abita proprio lì E quindi da quando Cioè lì Investigando subito È come l'Ucellona Che l'Ucellona sta a Grosseto L'ha già battezzata No L'Ucellona Grosseto Ma Ah ma no Stavi parlando con me No Pensavo Sì 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 Allora Non ho capito No 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 Fermo Fermi No 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 Per carità No 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 Che grosseto No allora Ehm L'hai fatta Non c'entra nulla Questa cosa No 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 Sembrava una Io non dico niente Sembrava quella Io non ho detto niente Non avevo capito Nel dubbio Non aveva capito Ragazzi Non avevo capito 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 Comunque no Non avevo capito Ma Sette mesi Eeeh Comunque scusate Io vi do la buonanotte No Un'altra mezz'oretta resta Ormai sei fuori orario Non ha senso Ha fatto trenta Ha fatto trentuno Ormai ci sei Va bene Yes Vabbè Lo sai Io quando ero piccolino Ho perso tantissime cose Io ho sofferto molto Per le cose che ho perso No Amore E quella era Ma intendi materiale? Sì 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 Materiale sì No la nonna Nonna Poi schianta per forza No dicevo Vabbè Qualcosa di materiale Qual è la cosa Che vi ha fatto più soffrire? Persa Persa sì Or rotta No persa Proprio persa Che non è diventata La fermata del pullman E non c'era più Bella domanda Devo pensare Grazie Mario Così poi ti lamenti Il giorno dopo Con Daniele Marcos Fai content Per la loro live Vai No 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 Come? No Mi è venuta in mente Agnese dici Dici Agnese Ho perso Piro Uno No Come ha fatto? Tuttora Non l'ho mai più ritrovato Probabilmente l'ho prestato E non mi è più stato Mai 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 prestare Quelle cose lì Non tornano mai più indietro E se ti tornano distrutti Già i giochi PS1 Fragilissimi Poi del libretto Per mettersi il cuore in pace Sì ma ormai Però Che palle Adesso No io giochi Giochi credo di no Però ho collezioni Robie collezionabili Pupazzetti Non ho perso Una valanga E mi dispiace tutto oggi Terriso invece? Guarda lo sai che io Su questo osavi Proprio c'hai corto A bestia Perché io ne ho persa Una poco tempo fa Ovvero Durante il trasloco Ed è una Di quando abbiamo venduto E ricomprato casa Ed è una cosa Che mi sta troppo sul cazzo Perché in realtà È una osa Che mi lega anche a te Al periodo delle superiori Io ho perso GTO Cioè la collezione? Sì Ma com'è possibile? Non c'è più Non c'è più Non c'è più Magari Li ciccia fuori Tra un po' di tempo Perché può essere Eh esatto Ma quella è presa in Lenzi Matte Sì Era bella No guarda ti giuro Che mi ci viene da piangere Quella che ci scontarono Quella che ci scontarono Ti giuro Ti giuro che mi ci viene Ti giuro che mi ci viene Da piangere Vabbè ma se ora L'hanno ristampata tutta Con la nuova edizione E vabbè però non è quella Non è quella Per il compleanno Per il compleanno Non so cosa fare Sì però non è quella Capito? Eh lo so non è quella L'avevano scontata L'avevano scontata a Lenzi L'avevano chiesto uno scontato Un fortissimo sconto Madonna se ci vede Sì proprio scontone Chissà Come è fatto a farsi scontare Una collezione intera però? No Cioè Ci vuole abilità Siamo impegnati A farsela scontare No no Non è scontato È buoto Coupon Eravamo alle lacrime Dalle risate Eravamo alle lacrime Ti racconto Vesta Un anno Abbiamo dovuto fare Due viaggi No papà A parte A parte Questa cosa in particolare Non c'entrava più la roba A macchina No quello perché Quanto sconto Quello perché Si era comprato Perché se l'ha comprato Avete fatto altre cose Quello perché Si era comprato Non fare sale di questo tipo Nella tua fumetteria Perché altrimenti No 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 A parte che Ripeto Lì c'era Avevamo comprato un botto di roba Noi ci tenevamo a parte i soldi Per tutto l'anno Per comprare roba a Luca Ma Boia Se la matti Se la matti Quel giorno lì C'era anche Lenzi E mi ricordo Questa cosa Incredibile E vabbè Non si può raccontare Come se fossero lì Capito Vedendo No perché Perché cosa disse Che io ero alle lacrime Si girò verso di noi Con quella faccia Di cazzo Che c'ha lui Dai Dario Ma come è possibile No 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 lo ricordo Ma se fosse ora Disse Disse Dario Chissà se ci fanno Uno sconticino E intanto Lo vedevo E si allontanava No Era stato uno Dei momenti Più 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 assurdi Della mia vita Vabbè Comunque Non Mi hanno fatto Lo sconto Ma cosa faresti Se facessero la stessa cosa Con il tuo Artbook Ma cosa c'entro Ma io non c'entro Non c'entro Non c'entro LL Non riberesti mai Un artbook Di Dario Mocha Ma si parla di sconti qua Non Si era uno sconto Ma poi ovviamente Si parla di sconti La infiochettiamo Un po' come le dichiarazioni Di Martini C'è tutta un'infiocchettatura Un processo Vabbè Comunque Fatto sta Che il mio GTO Non c'è più Vabbè Comunque ora Lo troveremo Te l'hanno scontato ulteriormente Dici? Eh Porca troia Te l'hanno scontato No ma magari Se hai fortuna Se hai fortuna Ti ciccia fuori Come quando C'hai quelle robe Sei presente Quelle robe per casa C'è le tra coglioni Per tipo quattro mesi Non ti servono a un cazzo Tipo le sposti Appena ti servono Non ti trovi mai più Magari è successa Una roba del genere Magari in uno scatolone Ti sei dimenticato L'hai messo in un punto Può essere Ma scusa No no Ma scusa Matte Mai provato a sentire Quelli a cui hai venduto L'appartamento O quei Novi affittuali Ho girato tutte le case Tutti i fondi garage A Livorno Ho spaccato tu tanti Non è un casino Grazie Nico Magalotti Grazie a tu Però è asturdo Che una collezione Sparisca così Eh Il trasloco l'hai fatto tu? Esatto Sto chiedendo quello Cosa? Mantin? Se il trasloco L'ha fatto lui Ah ok Cioè non hai avuto qualcuno Che ti ha aiutato Che poter ascoltare Anche lui no No Ok Vai a sapere Te Nico invece Ce l'hai qualcosa del genere Grazie a tutti Sì Sì Alle medie Feci uno scambio Con una ragazzina Che mi piaceva Ahia Ahia Lei mi prestò Bomberman Per Nintendo 64 Io mi prestai Banjo e Kazooie No Grazie Scambio 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 temporaneo Scambio temporaneo Pronto così Praticamente Non so per quale ragione Quel Bomberman Sparì da casa mia Non lo trovavo più Tant'è che quindi Non potevo richiedere indietro Il mio Banjo e Kazooie E io da allora Non ho mai finito Banjo e Kazooie No Mai Però ti do Una news Hanno messo su Switch Banjo e Kazooie Nel Nel Nello store Nello store Nello store Nella console Nella console Nella console Nella nintendo 64 C'è Banjo e Kazooie Quindi Forse è venuto Recuperato Vai Tra l'altro Io guarda L'ho giocato di recente C'è anche su Game Pass Funziona ancora Incredibile Ma funziona ancora Te Mastro Lo SNES Ma Lo SNES Lo SNES Come ho fatto a perdere Una console Attaccata al televisore Perché ce l'avevo Dalla minonna Un giorno arrivo E la minonna L'ha fatto sparire Ah vabbè Ma quello è claro Negando ovviamente Che l'aveva data Qualcuno L'aveva buttato via Eccetera Ma quello è successo anche a me E l'ho perso Cioè quando avevo Forse dieci anni Meno anche E io Io uguale Io uguale Quando a 14 anni Sono andato in vacanza Nelle Filippine Sono andato a casa Di mia zia E lì c'era il mio Nintendo 64 Che cazzo ci fa questo qua Perché c'erano i miei giochi Nel 2002 Un Nintendo 64 Nel 2002 Non è che lo compri In negozio Così Ma sai mi avete fatto Venire in mente una cosa La storia Tra l'altro Quasi commovente Da un certo punto di vista Del mio Super Nintendo Perché nel 96 Quando era arrivato qui Il 64 Io avevo il Super Nintendo Cioè io Nintendaro Proprio Perché voi lo sapete Comunque all'epoca Ci si divideva tra Nintendari e Segaioli Cioè era così Non c'era molto Questo era E io ero Nintendaro Proprio convinto Ma le due cose Sono antitetiche Quindi non si può essere Segaioli Se si è Nintendari No all'epoca no Oggi si Oggi si All'epoca non si poteva fare Quindi era Cos'è Si è messo paura All'epoca non si poteva fare E mi ricordo E mi ricordo Che Appena era uscito Quando era uscito Il 64 Ma Segaioli No Segaioli Perché erano Quelli giocavano col Sega Non perché erano Segaioli Eh si Certo Perché erano Cioè O con Segaioli Però noi lì si chiamava Segaioli all'epoca Perché erano Nintendari e Segaioli Mi ricordo che Quando uscì il 64 Io mi ricordo che Regalai Il mio Super Nintendo In tutti i giochi Perché c'era un ragazzo Insomma veniva A parte erano Cos'era Prima media Quinta elementare Quello che era Che Insomma non aveva le possibilità Insomma per prendere le cose Gli regalai Appunto questo Super Nintendo In tutti i giochi A parte la sua faccia Bellissimo Capolavoro Quella cosa lì Però ovviamente Da bambino Cioè da adulto Lo rifarei 20 volte Da bambino Un pochino comunque Ti seccava No questa cosa Perché sapevi che era Una cosa giusta Una cosa bella Però ti dava fastidio farlo Ma la cosa bella È che Non solo lui è stato felice A parte Cioè per dirvi com'era Lui tutte le volte Che lo usava Lui poi ha finito di usarlo Lo rimetteva nella confezione Cioè ti giuro È una cosa commovente Per non rovinarlo Ogni volta La cosa bella È che L'anno scorso Io dico Ok voglio Ricomprarmi Un Super Nintendo originale Perché Vorrei riavere Un Super Nintendo originale Vado su ebay Cerco A un certo punto Cerco un edizio Il tuo Cerco un'edizione specifica Cerco un'edizione specifica Che era quella Me lo ricordo Ancora con una piega Dico L'ha fatto Bastardo Ci sono riuscito Cos'è successo Guardo il luogo Guardo il luogo E io mi ricordo Dico ma in quel luogo Io mi ricordo Che poi sto ragazzo Con la famiglia Era andato a vivere In quel luogo lì Cazzo l'ho contatto E gli dico Guarda io sono interessato Perché il prezzo Era anche giusto E tutto quanto Mi fa Ma tu sei veramente Era veramente lui Quindi io ho ricomprato Il mio Super Nintendo Assurdo Assurdo Ma è tipo Bellissima sta cosa I giochi non ce li aveva più Però è stato bellissimo Super bello Te invece Surry hai perso mai Qualcosa Un Rolex Ci sto pensando da prima Da quando le chiesto la prima volta E no Non mi viene in mente niente Vecchiavile Porsche Ha perso una serie Vabbè ma anche da piccolo Magari No stavo pensando Quando ero piccolo Non mi ricordo di nulla In particolare Gioco Un Rolex Un skateboard Ancora Grazie davvero Duffy Per lo buonamento Ragazzi Noi te lo ricorderesti Anche perché di solito Sono traumi enormi Per i bimbi Quando perdono una roba importante Può essere Una escort Tipo Non lo so Non penso Una Ford Come fai a perderla Cioè come fai a Eh vabbè Quella Ha perso Quando aveva 24 anni Una villa Si ha perso una villa Si si è scordato Dove era situata Te Vic Per me guarda È una cosa Che mi brucia ancora adesso Lo ammetto È anche per me Un videogioco Feci un po' come Come Nico Feci uno scambio Con quello che è Il mio videogioco preferito Dell'epoca Che era Donald Duck In Trouble Era Sega Maui Mallard Maui Mallard Maui Mallard Del Super Nintendo No 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 Era proprio Però c'era anche su Mega Drive Back in Trouble Si chiamava Perché Maui Mallard Non era Paperino È un altro papero Che somigliava molto Paperino Ma non era Paperino Si chiamava Back in Trouble Era il sottotitolo E mi ricordo Che tipo Il pretesto era Che Zio Paperino Perché era Era legato a DuckTales Quindi Zio Paperone Si gonfiava Per via di un talismano Maledetto E tu dovevi andare A trovare la cura Sostanzialmente E lo diedi A questo Il nipote Della Di Rimpettaia Che ogni tanto veniva lì Mai fidarsi Il nipote di Rimpettaia Di Rimpettaia Solito piano erotto Sì Esatto Lui mi diede In cambio Un gioco orribile Di quelli con la pistola Che si chiamava Assault City Orripilante Una merda Che console Scusami Assault City Perché quale console? Sempre Sega Master System 2 Per il Master System Era l'unica Perché eri un po' Segaiolo Per il petteri Segaiolo È stata la mia prima console Quindi si ero molto segaiolo Anche la mia Sì E fai conto Che era l'unica Altra persona Che conoscevo Che aveva un Sega Master System 2 Non era molto diffusa Quindi ci scambiamo i giochi Non mi è mai Più Tornato Indietro E io ci ho fatto Una malattia per anni Di questa cosa Cioè per me era Era stato No perché Era il mio gioco preferito L'assoluto Poi tra l'altro Era il periodo In cui stavano ritirando I giochi Del Sega Master System 2 Quindi non ho neanche Potuto ricomprarlo Cioè non l'ho mai più visto Mai più trovato È stata una ferita Ancora aperta Purtroppo Che palle Sì sì E poi è bello Che ha voluto Ma ha voluto Il gioco indietro Il suo Indietro Con i bei Perzo di me Perzo di me L'ha voluto indietro Perché la madre ha detto Eh però così sarebbe Come rubare Io ho pensato Perché cosa ha fatto Perché Non l'ha perso Ha fatto finta Di perdere Il bastardo Tocca andare a cercarlo Ma so dove abita Però Addirittura Dove abita No no Nel senso che Non che vado a prendere Nel senso che so dove abita Dovresti invece Dovresti Non è sparito Ancora qua in zona Balaclava Gli occhio bravo Balaclava Balaclava Ah la mia storia È segnata dalla perdita Di oggetti Tante che alla fine Un po' Ci ho fatto il callo E Uno fra tutti È la bicicletta Cioè la bicicletta Io ho avuto Una storia di biciclette Ne avrò avute tipo Trenta di biciclette A tutte Con tutte Avevo sviluppato Un rapporto Un feeling Ho delle storie Che sono legate A quelle biciclette E tutte mi sono state Puntualmente rubate Complici anche il fatto Di vivere In una città Così Caotica Come è Bologna Vabbè ma A che matti Comunque visto A Livorno Nota Per questo C'è il meme Che vuole Che i livornetti Esatto Ma a capolone Non si mette A capolone C'è lo stesso Spendenti come me Ma nelle grandi città Credo che sia un fatto A Livorno A Livorno Non si mette il look Perché le biciclette Sono tutte in prestito Esatto Infatti quasi Il paragono I livornetti Ufficialmente L'inventore del bike share Ma la stessa La stessa La stessa La stessa La stessa Guarda ragazzi La città Dove non puoi possedere Una bicicletta Per eccellenza A Torino Cioè a Torino Te le rubano Veramente dopo due minuti Che le hai messa Al palo È impossibile Perché a Torino Io avrò visto rubare Non so quante biciclette A Torino Alla Sveglia Le hanno rubate quattro Che hanno scavato Quel buco gigante Adesso A Torino A Torino Sì sì Un centro storico Un buco così Sì Il fatto che Questa cosa qui Mi ha aiutato A tollerare la perdita Però su alcuni oggetti Continua a tornare Uno tra tutti È il boombox Avevo un boombox Avevo un amplificatore Sono quegli amplificatori Portati gli apirid Che andavano Portati negli anni 70 Esatto Ne avevo uno Quello molto stritta Da New York Esatto Che tra l'altro Avevo modificato Proprio una bicicletta Per accoglierlo Nel bagaglio Quindi giravo Abitavi a Bologna O abitavi a New York Veramente tantissimo Abitavi nel Bronx E quello sparito Non si sa bene come Poi mi ricordo Una volta Uno scambio Prestai ad un amico Un Una raccolta Della graphic novel Di Viper Vendetta Il tipo l'ha perse E a me non mi riferisco Un cazzo In realtà Di quella raccolta Era pure una stampa Tipo degli Oscar Mondadori Una roba Di infima qualità Però Mi esercitai Nel fargli credere Che ci tenevo Veramente tanto Sì che è lui Per compensare La mia perdita Mi ha regalato questo Ah vabbè Ah vabbè È una buona È ora Anche se era E poi Ecco E invece Un ultimo Che ancora adesso Non Mi perplima Pensare Come posso Averlo perso La prima Edizione italiana Della traduzione Del pasto nudo Eh ma Eh ma Che si sta annoiando Che è quello Ha Un valore Oltre che sentimentale Anche economico Vabbè cazzo si No idea di che Fina abbia fatto Tizio te Divanti Io perdo tutto Nel senso che Io Le cose Mi durano pochissime Quindi Questo ha portato A una desensibilizzazione Alla perdita Nel senso che Avrò cambiato Portafoglio Cambiato Tra virgolette Ecco Perfetto Tante volte E quindi Quindi Non Non mi tocca più La perdita Perché ormai Cioè Perdo tutto Quindi E ora No A me ci dispiace Tantissimo Perdere Perdere le cose Soprattutto se fanno parte Della mia infanzia Eh sì Che palle Eh Eh Però Però Poi succede Per esempio Te Mario Il fratello di Buzz Lightyear Lo chiamavo Era un giocattolo Che mi piaceva tanto Era tipo più alto Con il vestito tutto Viola Penso che voi l'abbiate Vista almeno una volta No Cioè E della Lordy Buzz Lightyear Era Azurge 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 No 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 Era un altro Space Boy Ranger Space Ranger Space Boy E io lo chiamavo Il fratello di Buzz Lightyear Perché faceva la sua stessa mansione Eh l'esperto di Lordy Tessunio Il frattario Amore Ma chi è che sta facendo questi test Non lo so Ma chi è che sta facendo il vecino qua Vedi che non ero io C'è qualcuno che sta facendo C'è un cingiale Avete i pervertiti che fanno le telefonate Sì sì Che non dicono niente L'unico suono è Ma l'ho detto prima L'ho detto L'ho detto prima Boh Non so cosa è successo Vabbè Andiamo avanti Non ero io ragazzi No c'era uno che Nel vecino qua No non ero io Forse è Andros Che struscia col microfono Il cazzo Cazzo sì Può essere Effettivamente sì Lo fa Lo fa Non lo so Ma ci avete nelle vicinanze Un'orge C'è un'inculata Da qualche parte Non lo so Marco c'è qualcosa Che non lo so C'è Marco No Mario C'è Magari qualcuno Che sta intervenendo Vabbè tanto uguale C'è qualcuno Che sta intervenendo La sua riga La sua riga È bellissima Vabbè Bob l'ha giustato Semmi un componente Dei village people In sicurezza nel caso Ti cadessero in testa Le palle di riso Che pesano Pericolose Mario racconta Cosa cazzo hai perso Te dio Cristo Te l'ha detto Ragazzi Ma voglio sapere Cos'è Cos'è il fratello Di Buzz Lightyear Ragazzi Non sto inventando niente C'è questo personaggio Della Della Lord Buzz Lightyear Che è Troccata Non è originale Trova l'immagine Mario Trovo l'immagine Trovo l'immagine E come lo cerco Fratello di Buzz Lightyear Ma perché Un cavallino realistico Adondolo Perché è un cavallo E un illico Aspetta che faccio una cosa E dicevo Ma che cosa ti ha fatto Eh no purtroppo La prossima volta Ci vanno proprio E' cresciato Mario Non l'ho detto solo io Eravamo almeno in tre Stai zitto Imbecille Grazie Guarda qua Lui Cos'è Non si vede niente Cos'è Uno sfavillotto Non riesco a vedere Guarda guarda Non ti sento Mi arrivano Un salto di pezzo Vedi Non è Zulge Non è Zulge Non è Zulge Vabbè si chiama Warp Dark Matter Sì Warp Dark Matter Va bene No allora Ti giuro si chiama Warp Dark Matter Warp Dark Matter Cioè tipo Mother Scritto tipo Mother Warp Dark Matter Tipo materia Materia oscura Materia Mio cugino Francesco Mi sono sicuro Perché chiamano un po' Chiamano in diretta Dai Non posso parlare con lui Perché È bannato da Twitch No no Perché non Non corre buonsangue Ah No no Con lui no Però l'ultima volta che ho Likeato Un mio cugino Da parte di madre Mi ha bloccato su Instagram Ah È una madonna Chiariamo Non è che vado molto d'accordo Con la mia famiglia materna Ok Eh vabbè Quello poi c'è Il clan e tutto Scusate Senti Ma almeno c'è quella paterna Eh sì Che problemi Vabbè Cosa No Cosa Surry Surry una cosa Dato che c'hai dietro il cartellone dei mates Ti chiedo È un graffito È sul muro Vabbè Eccolo che è tanto Chi l'ha fatto L'hai fatto tu No l'ha fatto Sasha Sasha Anima Ecco Potresti prendere Una delle lettere Più sentite Di una tua fan Lettere o lettere Lettere Io dico lettere Uno dei messaggi Più sentiti Di una tua fan No sono siglati Non si fa Il bosco La pesca Vabbè Ora penso Saranno morte Vabbè È passato un botto di tempo Ormai Cado in prescrizione Le poi legge No guarda Non ne ho qui Ora al massimo Saranno cresimati Penso Però comunque Cresimate No Cresimate No No Cresimate No No Ah ok Ti scrivano lettere Tipo via email Oppure via Posta Proprio scritte a mano Quelli franco No no scritte a mano Cartoline Col profumo Ovviamente spruzzato Bello però Te l'ho mai mandato Un pelo di fica Una volta mi hanno spedito Tipo mutandine reggiseno Ah Belli Stim Anche te tizio Ho spedito mutandine reggiseno Ma è successo? Chi? A me? A me tizio Ma è successo? Ah io sì Proprio tutto Proprio tutto Regolarmente No Praticamente tu Di no Tranne Surry Io no Sì Ma chi è quello che becca più fica? A parte vabbè Surry che abbiamo già escluso dal corso È D'Arcandros 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 Ma perché D'Arcandros Sembra quello che è cantato con Battiato Come si chiama quel tipo? Ah è Dio Bono E D'Arcandros Lucio Augustoli No devi smettere Ma devi smettere Non c'è nessun Lucio Augusto che ha cantato con Battiato Augustoli Augustoli Ah scusate Stai confondendo Augustoli Ora tu mi vuoi dire che di tutti quelli con cui è cantato Battiato Mi sono un attimo e non c'è spiccato Non c'è un Bruno Augustoli? No non c'è Non credo Profondo conoscitore di allora di Battiato sei? Io sono un grande fan di Battiato Ok No ma era quello Ma dici quello americano? Ma si chiamava? Zach Rostelix No 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 New Jersey Ah il mio Eh Jack Catarro mi pare Anthony si chiama Jack Catarro Anthony Ah Anthony Customs Anthony di Francesco Customs Sì sì lo ricordo Secondo Vabbè quell'altro mi è impazzito Cosa Ora se non arriva nudo Con il cazzo di fuori Con l'elmetto E basta Vabbè Matteo ma ste bene Eh da là Che condizioni Sulla portoncina Congelato No sto di lusso Sto di lusso Valle lunghe Stai rispondendo ancora Alla domanda del giro prima Cos'è No Cos'è Ah questa l'avevi già fatto vedere Martino Aspetta Pietra scolpita A colpa di A colpito Nel Figa l'Italia Vabbè E Mario Ti volevo chiedere un'altra cosa È quel momento lì No Cos'è No 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 Cosa E questo chi è Scusa Era uno mascherato Grazie a Un ladro era Grazie a No Credo che La persona che è arrivata al posto di Suri Ci voglia Subcomandante Subcomandante Questo è semplicemente l'outfit di Suri lo scorso sabato Non è che Tutti i sabati Questo è l'outfit di tutti i sabati Questo è quello di tutti Il cavallo ovviamente Il cavallino La scherina con il rosone Il mio prossimo acquisto sarà un bastone da passeggio Ecco si diventi però tipo arancia meccanica C'è un bastone da passeggio Vi è me successo di fare uno scherzo a qualcuno Quando eravate piccoli Che però poi diciamo È stato buttato un po' di fuori E È finito male In che senso Un scherzo epico Finito male tra l'altro È finito originale Ma è finito male Tipo che si è ammazzato Finito male No no Ma che cazzo Si sono rovinati Un'altra scala di valori Insomma Dicevi Matti Te era uno scherzo incredibile Che è andato un po' malino Poi alla fine Sì 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 Io l'ho subito tra l'altro Aia No ti racconto questa Eravamo da Paninoland Sì certo Ok Sai che è un noto Noto locale Da buttare di fuori a Livorno Sì 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 Sera il 23 dicembre Quindi appena finita la scuola Iniziavano le vacanze di Natale Era sabato No E io vado a Paninoland Con Joelle Liquid E il Goblin Hamburger La segreta il Gear Però comunque Hamburger Il Goblin Eh sì eh Hamburger Litro di Slalom Tiger Berry Si esce Si doveva andare a Calafuria Nell'andà Verso i motorini Io e Joelle Eravamo davanti Goblin Dietro di noi Ci prende le teste E ce le sbatte Una contro l'altra E io la batto Tipo sul soprasciglio Non si rompe Ma si gonfia Tipo tantissimo Sì Vado a ballare Non mi fanno entrare Perché pensavano Che me l'ho pestato Che ero super molesto E Briau Torno a casa La mattina dopo Era la vigilia di Natale Pranzo con tutti i parenti E tutti che mi hanno trattato Di merda E da delinquente Perché sembrava Che me l'ho picchiato A morte A Calafuria C'era un occhio gonfio Nero sì E nessuno credeva Che è stato Che è stato uno scherzo Non ci hanno mai creduto Madonna ma fa che male Ma fa che male Un male boia Un male boia Un male boia Sì va a caso Vabbè Mastro Beh ti quando hai sparato No eccetera Sì sì No Mi ricordo Eravamo tipo in gita Alle superiori Tipo A Strasburgo Una cosa del genere Praticamente abbiamo fatto credere A un nostro compagno di classe Che lui aveva speso Tipo 50 euro Le telefonate Verso l'estero E abbiamo Gli abbiamo detto Con la voce in francese Facendo la voce in francese Di andare giù alla reception A portare 50 euro E il documento di identità E lui è andato giù Alla reception Con 50 euro E il documento di identità Li abbiamo fatto credere Così per tutta la settimana Cioè lui Siamo stati una settimana a Strasburgo Che il professore diceva Però Non dovevi fare così Non dovevi chiamare all'estero E lui piangeva Ma poveraccio Una vacanza Icubo Vabbè Fai 50 euro Quando c'è Quando c'è Quando c'era A 16 anni 17 anni Poveri Poveraccio Suri va a pesca Dove va Però sì C'è rimasto Vassiluri Vassiluri stasera Sul Sull'Arno Cosa Uno scherzo Sì sì Abbiamo provato A fare uno scherzo Purtroppo Che non è Non è andato in porto Quando No 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 Non quello 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 è ancora in corso Esatto Appunto È ancora in corso Dopo quanti anni 10 Boia Lo scherzo Che secondo me Non è più classificabile Come tale Ma comunque No Finito nel penale Vabbè Comunque Noi ci abbiamo provato Abbiamo provato A far volare L'agila del Lenzi Vabbè ma non è uno scherzo No Però ci abbiamo provato Ci abbiamo messo Tutte le nostre forze Ma non era la domanda Che ho fatto Vabbè Sì era uno scherzo Ci abbiamo provato Poi ti spiego Perché poi si è tramutato Uno scherzo più semplice Lenzi aveva una macchina L'agila L'agila che gli prestava su mano Era una macchina Orrenda Era un bussolo quadrato Però E lui ci girava Insomma faceva Faceva Ci faceva i giri E ci permetteva Di incontrarlo Quando tutti avevano la macchina E noi avevamo contattato Il nostro amico Intelligente Fulvio Che adesso Lavora Tra l'altro A livelli grossissimi Con esperimenti Robi Lanci missilistici Quindi effettivamente È diventato qualcuno Importante In quel campo lì Che favola la roba No no Non è quello Però gli si era chiesto Di calcolare La massa Dell'agila E calcolare Quanti palloncini Deglio Ci volevano Per farla volare Perché noi volevamo Farla volare Tipo up E disse che era impossibile Perché la mole Di palloncini Che ci servivano Era praticamente Incalcolabile Infinita Per poter far volare Una roba del genere Tra l'altro Tra l'altro Meno male Siamo riusciti A non farlo Questa roba Perché poi Chiaramente I palloncini Sarebbero esplosi E l'agila Sarebbe caduta E Veramente Si poteva ammazzare qualcuno Quindi non è andata Allora Però si voleva Comunque Chiudere Uno scherzino Sull'agila Allora Il Florio Mise Un fazzoletto Sul cruscotto E caò Sul cruscotto Cioè passare Da Che cazzo di scherzo Eva Scusa Non riusciamo a farla volare Cosa facciamo Cagagli sul cruscotto Che canzio di drama Vabbè Ma si fa così Per ridere E E allora Poi Chiuse la macchina Tra l'altro Era estate Quindi questa merda Assorbì Tutti 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 Il calore E Si decompose E mi ricordo Ancora Lenzi Caprì la portiera Dell'agila Trovò la merda Del Florio In decomposizione E dentro C'era un odore Ragazzi Merda In decomposizione Impossibile Ha detto Ha detto Lenzi E ha dovuto andare All'autolavaggio Dio buono E assordare Un team Di tre persone Che Le vassero Questo puzzo Perché Non ce la versi Le valle E' schifo Grazie Perché Eh lo so Quando hai portato La macchina La mia macchina A lavare Perché era Per una di ricorso Suo Cioè Veramente Ricorzò nella macchina E ho toccato Portarla Dai miei fratelli Tunisini Ma cosa avevo detto Scusa Eh i tunisini E i tunisini L'hanno guardato E ho fatto Perfetto E ho detto Vomito E ho detto Vomito Ma non è per prendere Per il culo Ma mi dissero Ma mi dissero Quello E mi dissero Portare da loro A pista Tra l'altro Vicino alla metro E mi dissero Vomito E ho detto Eh beh Eh sì Ma ve la posso lasciare Ci penso io A posto Risorto Grazie Arrivederci Vabbè Surry ormai Andato Ormai siamo a livello Proprio NFT Sì A livello di ermetismo Concetto Esatto Arte concettuale Tra l'altro Tra l'altro Sembra un cavallo Ecco Perfetto Sembrava Sembrava un cavallo Che si avvicina Allo schermo Del telefono Della telecamera Ma poi Gag Gag slapstick Tremende Sai che ha messo La merda nel frigo No Quando c'è la merda È sempre il florio Sempre il florio Ma non era nel frigo Non era nel frigo Non era nel frigo Era una fabbrica di merda Vabbè Ora non era proprio il florio Io mi sa che una volta L'ho spedito Eri te No 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 Allora ci fu uno Della nostra compagnia Di col e servetti Così non facciamo nomi Che si ficcò una bottiglia Nel culo Eri te No 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 E caò dentro la bottiglia Con la bottiglia Però ficcata nell'ano Ma come è possibile Non è possibile L'aria da dove uscita Non lo puoi fare Non lo puoi fare C'è un problema di sfinteri Ragazzi Io l'ho visto fare Io c'ero A me era Tipo le bottiglie Tipo del succo Io so di cosa parlo Era vicino Non era infilata Perché non è possibile Io ho visto Una bottiglia Infilata in un culo Amore Cioè non è fisicamente possibile È uno stantuffo Poi quando lo togli Esce Ma se è incastrata no Ma Magari era sottovuoto La bottiglia Quindi C'era c'era Aspirato No io Agnes Scusa un secondo Dario Però non avevi paure Dell'effetto Doppler Perché poi Non lo devi dire a me Non lo devi dire a me Dico lui Dico non c'era Il problema Doppler Grazie Fabio Avvis Comunque Ma scusa Lui Usava una bottiglia Di plastica Sì che le piccolette Con le piccolette Ma come fa Oh dai non è vero Ma poi hanno il coso zigrinato In alto Cioè non ti graffa Poi ti farò parlare Con chi di dovere È lo sfondo del TG Quello lì Comunque Il culo filettato E lui la imbottigliò La chiuse E la mise sotto il letto E se la scordò lì E poi su Mar la trovò Ma perché Ma perché Il casino successo Quei giorni Ma poi è un autoscherzo Perché l'ha messa sotto il suo letto Vabbè Ma sto schema Come portava una pressa Davanti a sta di uno Oh murà Oh murà Quella fu Quella fu bella Questo è uno scherzo Però non era tuo Ho capito No Qui quando Quando un'altra persona Murò La porta di casa Di un altro mio amico Quello fu bello Perché Ma perché Cioè Murò la porta di casa Murato la porta Allora I genitori di questo mio amico I belli marchese del grillo Ecco Questa se la ve la ricordate In chat se la ricordano Praticamente I genitori di questo mio amico Partirono Per una vacanza E ci fu Un altro mio amico Che era esperto di questi lavori Insomma Edilizia Portò la betoniera Con la carcina Si mise lì a fare un muro Io me lo vedo questa La mattina E portò la betoniera Cioè Scusa La betoniera Sì Un po' di miscelina I vicini passavano Salve La piccola No 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 E poi c'erano i ferri Fesce questi coforatini Ad un certo punto Arrivò questo mio amico Lo beccò a fare il muro Era a metà Fesce Oh E' un po' stofano mio Ma che fai il muro No no Ora me lo lasci finì Guarda il burro T'ho fatto Ma che se ti lasciò finì Ma hai fatto il murato L'ingresso Levalo Un piccolo scherzo E verrà così Te tizio invece Di scherzi ne hai fatto Allora sì Ne ho fatto uno Bruttino A un collega Di youtube Assieme a Un altro collega Che era Roberto Bonetti Il veterinario Che saluto Mamma Praticamente Questo ragazzo Che aveva un canale Youtube Piccolino Si era informato E aveva trovato Il modo Sicuro Al cento per cento Per comprare Visual Che rimanevano Oh me la ricordo Tu te lo ricordi Ecco Sì E allora disse Ma se volete Potete comprare Dieci Venti euro Bonetti Disse no Ma cazzo Io se devo fare L'esempio Lo faccio Lo faccio E compro Cento euro Di visualizzazioni Che erano L'equivalente Di centomila views Una roba del genere Ok Naturalmente Le view Arrivarono Naturalmente Erano view Farlocke E altrettanto Naturalmente Vennero tolte Dopopoco Se non fosse Che poi Ci siamo messi D'accordo Nel weekend Dobbiamo fargli capire Che Come si dice Che ti hanno buttato Giù il canale Che insomma Che ti vogliono Fare un culo così No E quindi Siamo andati Da questo ragazzo E fa Ma che cazzo hai fatto Ma cosa Cazzo ho fatto Mi che gli stanno Buttando giù il canale Abbonetti Ma stai scherzando È incazzato nero Ma no Ma cosa ho fatto Ma io pensavo Tutto così La cosa brutta Dello scherzo Non è stata La cosa in sé Ma è stata Il dirglielo Che era uno scherzo Due settimane dopo E in mezzo C'erano le vacanze Di Natale Io dopo Ho saputo Che la persona In questione Si è fatta Un fegato marcio Perché Si è fatto Tutte le vacanze Di Natale Pensando Oddio Ho buttato giù Il canale A un altro Poi alla fine Vede Vabbè Comunque Meno Mamma mia Però De tizio Questa era tremenda Dei poverati Sì è bastato Due settimane Con il colpa Ma di mano Mamma c'era io Poi io per queste cose Ci soffro un botto Ma non ci vorrei Nemmeno mettere Per un secondo Questa situazione Ciao Bella Ciao Diego Ciao Ciao Ma ti sei sborbato Eh sì Sì Che bellino Stai bello Viso pulito Viso pulito Allora devi sapere No 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 Non ho il mento Devi sapere Diego Che Mario Vedi com'è contento Perché Ciao Mario Piacere Lui voleva conoscere Voleva conoscere Te e Nani Lui è proprio così Vedi Lui che avvano Tra l'altro Voglio dire una cosa In confidenza E Mario ha detto Guarda lo scorso Poi mi ha fatto cacare Anche perché c'era Della gente di merda Che non mi interessava Conoscere Davvero Chi erano Chi erano Chi erano Chi erano Io mi aspettavo Più più tomodaci Volevo vedere Volevo vedere Nani Dada Di bell'altro Mi importa Che muoiono Grazie Sono onorato Grazie Mario Grazie Parole gravi Come no Ma allora Come non hai detto questo Scusa Mario Ma cosa ti ho fatto esattamente Non ho capito Non ho fatto niente Non ho detto questo Tra l'altro Siccome siciliano Ha detto Vittor L'altro Vittor L'altro Mi può sucare La minchia Ma scusa ma perché Perché Lui voleva Conoscere Nani Dada E tra l'altro Non si è ricordato Che anche Vittor È nella tomodaci Quindi ha detto Una cazzola Io e Vittor Siamo l'unici Stronzi in affitto No Ah ok C'è anche Ok anche Mario E ok Fa pezzo la maggior parte Diego in realtà No perché Sembra un po' Da stronzi Sta in affitto Ultimamente Ma perché No Non è vero Perché Che ne so Meglio comprare casa Conviene però È una roba molto italiana Il mito del comprare casa Non è che sia meglio per forza No però diciamo Sai cos'è il fatto Il fatto è che magari Stai in affitto 20 anni E pensi Cazzo Se anziché stare in affitto 20 anni Pagavo il mutuo Ah quello sì Su quello sono totalmente d'accordo Cioè è sul lungo periodo Che ti rendi conto Che forse potete farlo Capito Perché se lo fai per 3-4 anni Chi se ne frega Se dopo tipo 25 anni Che sei stato in affitto Ci pensi Dici A sto punto Avevo la casa mia È un po' quello il punto Cioè non è un cazzato Ma che non è un immobile Da parte Cioè ci sono quegli affitti Diciamo che Un po' confuso Ci sono quegli affitti Che quando paghi Vengono diciamo Messi come Ah il Il rent to buy Grazie È da qualche anno Che girano queste cose Quella è la soluzione migliore Boh non lo so Io ho comprato Ma perché semplicemente Non mi andava di farlo Non mi andava di averci una base Una sicurezza L'ho comprata Però Ora per esempio Ho già trovato Chi forse la comprerà Bisogna vedere se Fra un anno Un anno e mezzo Sono ancora interessati Però Magari sei anche In una dimensione Dove questo è fattibile Se io Mi chiedo di comprare Le robe Che sono nel centro Di una città Che si spara il viaggio Di essere una capitale Quando in realtà È un bordo Dovrei spendere Delle quanti Delle cifre Improponibili Per dire no 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 Confermo Qua le case Non costano un cazzo Per esempio Tutto un po' Come Infatti Sì Lì è una svolta A Messina Lo stesso costo Di una villa Equivare a una casa Normale Qua a Milano Come da noi Una villa Io volevo Ho una persona Che mi introduce Nel giro Delle aste Quindi volevo vedere Se trovo qualcosa In asta Stai attento Però con le aste No no Attenzione Il cadavere murato Dentro Il babbo Del parcheggiatore Di Diego Probabilmente Devi avere un tizio Devi avere un tizio Cioè non puoi andare da solo Cioè io ho questa persona Che lo fa di mestiere Insieme al padre Lo di mestiere Accompagna le persone All'asta Sì perché Diciamo che Perché sono praticamente Le case Magari quelle sequestrate Magistratura Cosa del genere La camorra Non lo so questo Però Vengono messe all'asta E il problema è che Diciamo che Da solo Tu magari Compri la casa Riesci a giuricarti l'asta Esci E ci sono questi tizi Alti 1,90 m Che ti fissano in un vicolo E ti sbarlano la strada All'improvviso E tu ritieni l'asta Ritieni il tuo prezzo d'asta Quindi per evitare Che succeda questo Devi avere un tizio Delle aste Che ti fa da mediatore Sostanzialmente Tipo quando andava A raccogliere La pensione Fantozzi Che doveva andare a scortare Sì Ok Esattamente Non so se è così dappertutto Nella mia zona funziona così Non so poi Nelle altre città Però in questa zona Devi avere un tizio Delle aste Sennò non Non è cosa Pazzesco Pazzesco No io all'asta Mi dà noia Di concorre con l'arte Fa gara Prende minosa Giovallini la piglio Sennò Sono state sul cazzo Anche con le carte Figuriamoci con le carte Tante volte però Hai partecipato alle aste Sì perché ero disperato Per trovare un'arte Non avrei trovato In nessuna maniera Non ricordo ancora Il periodo delle aste Mi stavano sul cazzo Beh vabbè A periodo ora Lo faccio più Lo controllo subito E vaffanculo Eccoci qua Subri che torna Ai vecchi tempi Eh questo Non è come l'origine Un po' misto Però Fortnite Ma a proposito di carte Eccetera Voi Nel periodo Nell'ultimo periodo Avevi fatto investimenti Strani Tipo Cripto Stronzate NFT Popolini Propoli Capi Io sono multimilionario Ah sì Ok Una valuta Che non vale una sega Però Cioè Eh ho preso Ho preso una di quelle Cripto che non vale un cazzo E quindi Sono multimilionario Rispetto a quella Valuta Hai preso una valuta Che vale pochissimo Quindi hai un milione Di qualcosa Che non vale un cazzo Esatto Magari salta in aria Con la valuta E sarei miliardario Davvero Milionario Ma infatti Tanto io L'ho dimenticata Sta là Faccio il cosiddetto Holder Giusto Te Mastro Hai fatto qualcosa No eh Niente Non ho soldi nemmeno Per asciugarmi i capelli Vabbè Va bene Nemmeno io niente Cioè io proprio Sono lontana Da Tutto il mondo Dell'investimento Non mi prega niente No Anch'io Ho fatto gli scherzi Anch'io Guarda come Agnese Non mi ci sono mai avvicinato Non Io ho investito un po' Nel modo di NFT Però Qualche mese fa Nel Diciamo Nel settore più dei videogiochi Che utilizzano gli NFT Quindi ci sono alcuni giochini A cui ogni tanto gioco E per giocare Necessito di alcuni NFT Tipo i metaversi No? Ci sono dei metaversi Che hanno questa logica No Sono proprio browser game In cui Tu hai il tuo inventario Il tuo profilo E tu Devi comprare gli NFT Per giocare E E niente Però Nessun guadagno Diciamo Effettivo Tanto Tanta roba for fun Poi La settimana scorsa Ho comprato invece Un progetto in effetti Di quelli Che vendono su OpenSea Che è una piattaforma Tipo Ebay Degli NFT E molti dei progetti E molti dei progetti Loro te li vendono Con Diciamo Queste immagini Che sono coperte Tipo sono 10.000 immagini Tutte coperte E poi ti fanno il reveal E tu In base al rank Che ha uno di questi NFT Costa di più Costa di meno Un gaccia Un gaccia praticamente Un poche parole Bello Bello Vai alla cieca Quindi Non lo fai Sì Sì Abbastanza E E la cosa divertente È che le persone Che avevano Fondato questo progetto Io non ne sapevo nulla L'ho comprato davvero A occhi chiusi For fun Perché c'è Stefano Che è super in un fissa A vostro opinione Fettine Compra un botto Allora ho detto Ma sì Fammi ne comprare uno Così ma così a caso Torno a casa L'altro giorno Qui a Milano Ti faccio Ma siamo ricchi Mi fa No Hanno preso i soldi E sono scappati Ah come no E quindi buono Nel senso È stato Il figlio Bene Mi infonde Sicurezza Sugli investimenti Futuri Su queste cose Grazie Grazie Andrea Cioè Dada aspettava Soltanto questa conferma Io stavo per cliccare Adesso Per farlo L'investimento Sì sì Mi immagino No ma a me Chiamano costantemente Quelli trading online Nel telefono Tipo attacco E me ne chiamo un altro Ah Vedrebbe Partecipare A Tadio Dai A me Parlo Mi interessa A me Nel trading Quando lo chiamano Sono finanzi Questa lì Ha installato St'applicazione Sul telefono Che me lo dice L'anticipo Se mi sta chiamando Bella quella Incredibile E quindi gli rispondo subito Non sono interessato Al trading online Oh Non puoi immaginare Ma io non capisco Perché cercano noi Perché cercano noi Perché cosa vogliono Da me Da te Cercano tutti Cercano tutti Cercano di Probabilmente il tuo numero È finito In una banca dati Di qualcosa Di Non per quello Perché cercano Gente esterna Che cosa cazzo vogliono Che cosa ci devono fare Con i miei soldi Così ti Te lo buttano in culo ancora meglio Perché non sai nulla Diego Non sai nulla No Ti seguiamo Vuoi essere sicuro Investi i tuoi soci Io metto i miei soldi Certo Daccili a noi Che te li investiamo E se ci facciamo l'ora È lo cosiddetto Schema Ponzi Bello Bello Moana Ponzi È il mio preferito Surry Surry Tu investiresti In degli NFT miei Beh dipende Qual è l'utilità Di quegli NFT Nel senso Avrebbero poi un'utilità Nella tua community Durante le live No Allora no Scusa che Cosa vuoi fare Nulla No Che sono come opere d'arte Che poi opere d'arte Parliamone Cioè nel senso Volevo fare l'NFT Dermi cazzo Del Dermi cazzo Ma perché l'NFT Scusa No ragazzi Scherzo Scherzo Mi fate parlà Non ti arrabbiare Dario E quando devi vendici Guadagni sopra ancora Tu puoi impostare una percentuale Quando c'è una nuova transazione Tu comunque In quanto proprietario E creatore Originale Guadagni una percentuale E quella è la cosa figa Degli NFT Se tu fai Come stanno andando così tanto Secondo te Suri Perché Non lo voglio fare Ragazzi Cercano degli investimenti Dei beni rifugio La gente Ha disperata ricerca Di fare della pilla Fondamentalmente Io credo Dai Perché poi alla fine L'NFT Non è neanche interessante Il discorso Sul valore Sulla restituzione Di un valore Alle opere d'arte digitali Che fanno fatica No Ad avere riconosciuto Non valore Perché Manca Manca il supporto fisico Quindi quella roba lì È proprio lasciata da parte E il focus Sul quale tutti si concentrano Che potrebbe essere Un investimento Sul quale lucrare E ma infatti E ma quello che mi chiede Perché non c'è Molto inflazionato E soprattutto Il fatto che tutti Possono farlo Cioè se tu Uno apre Un wallet Ora e mezz'ora Riesci a inventare Un paio di immagini Che fa su paint E può farlo E come Lo stanno facendo Tutti i giorni Dattissime persone Quindi il valore Più gente le fa Meno vale Diciamo Come settore Poi indubbiamente C'è gente che ci fa Un botto di soldi Perché Se gli NFT Sono legati A un progetto più grande Come può essere Non lo so Come si chiama Sandbox O quelle cose così Allora C'è un po' di senso Dietro Altrimenti sono Semplicemente immagini Che tu compri Sperando di rivendere Per fare una plus valenza Speculazione basta Esatto C'è Sclapis Che ha fatto Un NFT Da 20k Che ha venduto Di recente Un NFT Da Ok Non gli diciamo Complimenti Sì complimentoni Murakami Murakami li sta facendo Sì ho visto Ho visto Ho visto Vabbè ma Murakami Ragazzi è Cioè è veramente Un Andy Warhol Dei nostri tempi Chi è? Chi è? È un artista Giapponese 140 Cosa dicevi amore Prima? Hai detto tipo Un NFT Del mio cazzo Ma cosa vuol dire? Una foto No è Simone Peano Che gli fa Un disegno Del cazzo Di Dario In realtà c'è già Un disegno C'è già Un disegno Del mio cazzo NFT Vai No 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 Comunque no Non lo farei mai Ma non è necessario Che sia quindi Una cosa disegnata Cioè può essere Qualsiasi cosa Un NFT Anche un prete Ah NFT può essere Anche la proprietà Di una casa Eh infatti È quello che Mi ha inventito Il cervello Che non riesco a capire Boh Non so pure io Sono un po' Stunnato Mi vendi L'NFT Di casa tua Su Ma cosa vuol dire? No è quello È rendere Unico Un qualcosa Che poi Quello più comune È l'immagine L'opera d'arte Mettiamo così Però si può fare Con tutto quello Che vuoi Potrei fare Un NFT Di questo bicchiere Chi possiede quegli NFT Su quella blockchain E diventa proprietario Di questo bicchiere Perché io scrivo Faccio un accordo Tra le parti Per cui tu Proprietario dell'NFT Sei anche proprietario Di questo bicchiere Ed è una cosa Che alcuni musei Stanno facendo ora Con alcune opere d'arte Quindi vendono delle cose Metti caso C'è un Picasso E c'è un museo Che ha i diritti Alla proprietà di questo Picasso E dice Voglio mettere in vendita Tot per cento Di questo Picasso E quindi tu fai Degli NFT Che rappresentano Un tot per cento Dell'opera E quell'opera Verrà data Ad altre mostre Quindi ci sarà un guadagno E tu diventi Socio Di quell'opera In qualche modo Se tu vuoi rivenderla Ti prendi la percentuale E quell'altro diventa Proprietario di quella quota Posso dire? Sì Tu puoi vendere E fai più scalenza Sul L'NFT Il tondo doni Per esempio Uno crea È soltanto un valore finto Che ti vendono Bellissimo Non è finto È vero Perché è finto simbolico Per esempio Il Louvre crea Un NFT Della Mona Lisa Ne può creare uno solo O posso dividerlo? Come funziona? Di base si divide in tot pezzi Ok Quindi è in tot pezzi Già prestabiliti? Lo decide chi lo vende Io sono possessore Di questa candela La divido in due Oppure posso dividerla In diecimila pezzettini Eh sì Sì ma dico Te ora decidi Decidi di dividerla in due In due Sì Fra un mese Puoi decidere di suddividerla ancora Ormai divisa in due fine Ok Questa è la domanda Una volta che tu fai il minting Della tua collezione È quello Ok capito A parte i sui c'è qualcuno Che ha investito in qualcosa Io nelle carte per esempio Ve lo dico tranquillamente Cioè un vestito Lo ho comprato E poi se salgono Vabbè Però lo ho comprato tante In questo periodo storico qua Anche prima del covid E prima del boom Però Ci sono stati tanti Che hanno fatto così Al posto degli NFT Io non ho investito in quello Magic Pokémon Tutto Ma voi sapete quella cosa Del metaverso Del tipo che ha comprato Un'azienda di taxi Nel metaverso Perché poi ci sarà La possibilità Di spostarsi E lui si è mandato avanti Avendo l'azienda Cazzurdi Ma sai qual è il vero problema Il problema è che Il vero problema è che Oggi si parla di metaverso Il discorso è che non esiste Un metaverso Ne esistono Vari di metaversi E il discorso è che È un investimento Cioè devi avere veramente Un culo pazzesco È come per dire Quando è nato Facebook Ok che noi avevamo Netlog E quello che E quindi Definizione di metaverso Eccolo qua esatto Giustamente Grazie Max Ecco quindi Il discorso è che lì Vai veramente Cioè devi sperare È come se quando Ok che noi Noi avevamo Netlog qui in Italia Cosa antesegnano Di Facebook E compagnia bella Ma è come quando Quando era nato Facebook Ce ne fossero stati Altri tre uguali Della stessa portata Cioè il discorso è che Tu vorresti fare L'investimento Su quello sbagliato Sbagliato Inforcare il metaverso Un'altra cosa Non è solo Scegliere il metaverso Sbagliato È anche scegliere La blockchain Sbagliata Perché ora La maggior parte Dei metaversi Sono su Ethereum C'è Solana C'è Solana Che è molto promettente Quindi magari tra un anno Si cambia completamente Blockchain Tu gli NFT Che hai su una certa blockchain Non è detto Che tu riesca a trasferirli In un'altra Quindi anche quella È una Tu sembri bello Inforziamo Dell'aspetto pratico Di NFT No ma Suri È un mostro Per questa Mi sto immaginando Il riassunto del pub Sai quella scena Suri che spiega La magna Esatto Ma posso fare una domanda Posso fare una domanda Per riguardo questa cosa Sempre a te bro Cioè Quanto è Il budget minimo Per poter investire Su una criptovaluta A me stai chiedendo? Sì sì Ma anche agli altri Se ne sanno Per investire In una criptovaluta Beh oddio Dipende in quale cripto Stai investendo Perché se stai investendo In una cripto Diciamo Di quelle Secondarie Terziarie In cui hai molto Hai speranza Che salga Anche solo 100 euro Ti possono far fare Un botto di soldi Perché si tratta Di magari Coin Con Non lo so Valore 0,0001 Cheat coin Già guadagni tanto Se invece vuoi investire In bitcoin In ethereum Ti direi Prova a fare Un acquisto ricorrente Con Con dei budget Insomma Quello che ti puoi permettere Tipo totta la settimana O totta il mese E andare Oppure aspetti I dip Come è successo poco fa Che bitcoin è sceso Ora bitcoin è sceso Di un bordello Sotto i 30 no Però tipo 30-32 Allora lì Compri un po' Sperando che risalga Non c'è una cifra minima Quindi l'investimento È settimanale Come? L'investimento è settimanale? Io personalmente Lo faccio così Però Puoi anche investire una volta Lo lasci dietro 3-5 anni Tutti Si sente anche Che si mette tipo Giornalmente Fa una sessione Di tipo 6 ore E compra e vende Capito? Ma scusami Se gli anni Hai di approcciare L'ambito economico Sono infinite Scusa Io veramente Non riesco capire Di sta roba Cioè Non Sembro veramente Stupida Però è che Non riesco a capire Cioè se tu Hai un tot di bitcoin No? Come fai tipo A trasformarli In euro Cioè C'è che te li Sono degli exchange Come tu hai degli euro Ma in Giappone Bisogna gli yen Come? Ah ok Cioè ci sono Troppo alcuno Che te li compri Sì sì Compra vendita Proprio Come tu vai in Giappone E compri gli yen Usando gli euro I dollari Stessa cosa Con i bitcoin Puoi usare i bitcoin Per comprare altre cripto Oppure Per comprare degli euro Ne approfitto Ne faccio una domanda Ma visto che Ad esempio Ci sono alcuni Stati tipo Russia se non sbaglio Anche la Cina Che sta vietando Da quello che ho capito L'utilizzo dei bitcoin C'è il rischio che Queste Queste criptovalute Possano essere Sempre in discesa Cioè Alla fine C'è un Sono due stati Che boicottano L'utilizzo Delle due Delle due criptovalute Aspetta Mi sono cuti le palle Prego No Allora Il rischio Grazie Mi è tolta la candela No Il rischio Cioè non è Nullo Cioè il rischio Che succeda qualcosa A livello diciamo Istituzionale Che vada Ad alterare Il valore delle cripto C'è Però realisticamente È un sistema Che è decentralizzato E quindi la vera potenza È anche quella Che uno stato dice No Non potete usarlo Il modo di usarlo Comunque si trova Cioè ad esempio La Cina Qualche tempo fa Ha emesso Insomma Le nuove regole Per chi fa mining Quindi tutti quelli Che facevano mining In Cina L'hanno preso un po' Nel culo Però Quando si tratta Di usare le cripto Essendo decentralizzato È davvero difficile Proprio Accettabile Anche perché L'idea alla base Delle cripte Era anche questa Cioè Passare le banche Esatto Ma Suri Hai un bottone Schiacciandolo Distruggi Atomicamente Quel posto Quale posto Las Vegas Dubai O Orciano Pisano Allora Non sono mai stato A Orciano Pisano Quindi Uno degli altri due Ti direi Las Vegas Ok Spiega perché Per favore Perché Las Vegas Non mi piace Per niente Sono stato diverse volte E mi dà un'idea Di disagio Totale Nonostante ci siano Alcuni degli hotel Non dei più belli Però ci sono alcuni hotel Molto famosi Boh Non mi dice molto Qual è invece il posto Nel mondo Che vi attira meno Meno? Sì Dubai Orciano Pisano Orciano Pisano No No Dubai Dubai L'Australia Niente di speciale Ah mi sa che Ora sta facendo Il sostenuto Perché Ha detto qualcosa E non ne è stato cagato Mi sa No No Per malosissimo Per malosissimo Qualche cosa Sta incazzando Guarda Lo sta incazzando Succede a tutti Per malosissimo Cioè certe volte Si viene costati Ma è normale Ho pensato Ho pensato a Surri Perché diceva anche Gli influencer I vostri influencer Che ci vanno E dicono che si divertono Vi dico io la verità E ho pensato a Surri Che ha fatto un video Su Dubai No non proprio Lui ha fatto un video Cioè dove intervistava uno Che con le crypto Ci aveva fatto soldi E abitava a Dubai Però si ha fatto anche dei video Dell'hotel a Dubai Qualche cosina Sì sì Ma io quando dico che Dubai Sentimenti contrastanti Perché mi piace un botto Da un certo punto di vista Perché è una città In cui si ha le possibilità economiche E puoi fare il cazzo che vuoi Dall'altro punto di vista È una città Che è eticamente Proprio sbagliata E quindi un po' me E comunque I posti orredi Alla fine sono tipo Il centro dell'oceano Sul fondo di una Di quelle caverne Che sono dei circuiti Dove ti perdi sai Così effettivamente pericolosi Ostili alla vita Cioè quindi non si è attirato Dei posti che ti potrebbero uccidere Dipende Non necessariamente Alcuni posti che mi potrebbero uccidere Mi piacciono Tipo La La bassa orbita terrestre No Ok In quel posto lì muori Se non hai una tuta Però allo stesso tempo Dico cazzo Avezzavo 100% È una bella prospettiva Ha un quale Però di contro Invece Trovarmi sul fondo Di una caverna Ma neanche di quelle caverne Dove dici Ci sono delle enormi Strutture Che non trovi Da nessun'altra parte Nel mondo No Dei buchi Nel terreno Ma qual è invece Il posto più pericoloso Che avete visitato Io Le rambla Le rambla di notte Mi hanno regalato emozioni Non so se erano molto A 18 anni Poi non è che Eh io in quelle Ci ho vissuto Praticamente Per un sacco di tempo Ci ho vissuto Per un po' A Barcellona Ah ok Io Rischiavi di incontrarmi Quindi hai ragione Una famosa periferia Una famosa periferia Sono un po' Adesso non faccio nomi Però insomma Io piramida Luna di notte Boia Madonna Dio Cosa c'erano I cammelli incazzati? No piramida A Roma Ah No io quando sono andato In Madagascar Mi hanno avvertito Prima di andare Che il secondo Business Criminale Più prolifico In Africa È il rapimento Di persone E questi Prendono riscatto Ai rispettivi Stati E Io quando sono andato In Madagascar Non sono Andato a fare Diciamo La villeggiatura Nel senso A prendere il sole Sono andato Nel Madagascar Quello chiamo Continentale E Sotto il mio hotel C'era La scorta armata Perché L'hotel Aveva Tutto turisti E quindi c'erano Sempre i militari Fissi Per evitare Che venissimo Rapiti Io Una sera Non avevo voglia Di cenare In hotel E Sono andato A fare un giro A piedi Immagina In una città Che si chiamava Diego Suarez Molto Molto carina Simpatica Solo che Non c'erano Le luci Quindi quando tu uscivi Dopo il tramonto Era tutto buio Pesto L'unica luce Erano quelle delle macchine E Non avevo neanche internet ovviamente Quindi a una certa Mi sono perso a Diego Suarez Cercando un posto dove mangiare Ho trovato un barbiere Aperto alle 8 di sera Ho trovato un pub Con dentro degli inglesi E dei francesi Ma non faceva da mangiare E poi Magicamente ho trovato Un Asian fusion A Diego Suarez Ok Molto buono Che fortunatamente Sono riuscita Di trovare a casa Cioè in hotel Madonna Però è stata una bella Bella esperienza Io non Mi ricordo Forse anche quando ero nel deserto Andaluso Lì mi sono un po' caccato addosso Perché Ero lontano E sulla macchina Di due tizi Appena conosciuti Che ci avevano portato nel deserto Per fare la foto Sotto il toro delle rambla Sì delle rambla Sì boi Il toro de Osborne Quindi mi sono pregato veramente La sei rischiata però cazza Con due tizi del deserto Mokai di Alulla Che saluto Sicuramente sì Una volta di luoghi pericolosi Sono stato In un centro sociale Che era stato sgomberato E su quale la polizia Aveva posto i sigilli Io trovai un modo Di infilarmi Ma era una sorta Di piccola città Nella città Era un luogo immenso E da quando l'hanno sgomberato In realtà ci hanno trovato Due cadaveri dentro Gente che andava lì A ripararsi Per farsi un'overdose O insomma Una situazione un po' così Tant'è che mi sono andato Ad infilare In alcuni di questi capanni Che Quando era attivo Oltre ai posti Dove la gente Che lo abitava Soggiornava C'erano anche due discoteche Un'officina Diversi bar Era proprio Una sorta di piccola città E andandomi ad infilare In uno dei luoghi Più angusti Di questo centro sociale Abbandonato Dove ancora era rimasto tutto C'era ancora uno studio Di registrazione Una biblioteca Mi sembrava di essere finito Tipo in una Nella tomba di Tutankhamon Era uno scenario incredibile Poi ero un ragazzino Avevo tipo 15 anni Alla fine finisco In una stanza Buia Dove Non appena riesco Ad abituarmi All'oscurità Vedo Quattro letti matrimoniali Pieni di gente Che ci dorme sopra Con un sacco Di stagnole A terra Madonna Madonna Una situazione Un po' del cazzo Mi sono andato In punta di piedi Sennò che ho fatto Un rumore Arriva un urlo Cosa fai Vuoi rubare E sono scappato Ha rotto il colpo Ma che paura cazzo Lì cazzo Che cazzo è addosso Ma Non si vede però Assurri No No è lui Non è il momento giusto Qualcuno è morto Non so chi Mi ricordo Che è finito Nico 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 E' giù In realtà è molto simile No Questo sarebbe il mio sogno Vedi Questo sarebbe il mio sogno Madonna Eh sarebbe molto bello Sì Zeb al pabbone Per fare una chiacchierata Sarebbe il sogno E allora Io inizierei Inizierei a ringraziare tutti Ringrazio Amala Pazza intera Sarà intera Amala Dai zitto Deficiente di merda Capisci un cazzo Mario di merda Defici un cazzo Sei Coglione demenziale Il 5 maggio 2002 Comunque Ho cambiato espressione Eccoci qua Allora ringrazio In ordine Di apparizione Dai da bottura Ora studi Questo Da bottura Impastato È sempre Frisato tutto Ah no 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 È fermo È una foto di lui No più che altro Vedo qua un pixel Vedi qua C'è un pixelone qua Ma perché La scella Allora ringrazio Martina Ringrazio Suri Ringrazio Diego Ringrazio Vic Ringrazio Tizio Ringrazio Mario Ringrazio Grazie a voi Chi maca Ringrazio anche Dark Andros Ringrazio Riso Ringrazio Mastro Mastro E poi basta Io No vabbè amore Te certo Però te mica te ne vai ora Scusa non è che ora Che c'è la chiamata E te scompari Rimani che accanto a me C'è la Panetti anche Ah c'è Ha perso Panetti Al volissimo Sì 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 Comunque grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che ci seguite Io continuo su Pokemon E fate a modino Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao